Questo programma è offerto da... Costruiamo cucinini su misura ad alta specializzazione, monoblocchi per zona cottura, lavello, frigoritero o congelatore, lavastoviglie da 45 centimetri, con trasporto e montaggio. Finalmente qui li scegliete voi. Facciamo i conti? Porti via, più monti tu, uguale prezzi d'ingrosso, FBA di Bruno, corso potenza 183, angolo di Alucento, Torino. GENTLEMEN! GOOD LORD! GENTLEMEN! 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 Grazie a tutti. Nome di 30 novembre 2020, un saluto da parte di Erganzeri, 2 di 30 credo che sia, sì venerdì 27 stiamo registrando la prima parte quindi credo che sia corretto. Eccoci qua, nuova puntata di PrestiCaffè, come sentite siamo, almeno io sono giusto appesantito, Mattia non sta benissimo, fortunatamente però è stato comunque ben disposto a venire in onda. Buonasera Mattia di noi, voglio realizzare il primo podcast in cui il co-conduttore sta male nella prima parte ma nella seconda parte sta bene, vedremo come andremo a finire. Penso già che avrà così, più che altro perché sono raffreddato e solitamente il raffreddore è quella malattia infame in cui per un giorno stai una merda e per un giorno dopo non hai praticamente più nulla. Dipende, dipende, bisogna valutare un attimo, però sì di base può essere effettivamente così. Adesso poi valuteremo diciamo domani. Valuteranno gli ascoltatori il lunedì, poi è la seconda parte. Esatto, esattamente. Comunque vabbè, buonasera, buongiorno a quello che è Mattia di noi. Ciao. Eccoti qua in versione un po' raffreddata, non sappiamo come stia invece Gianluca Rouge che è collegato con noi, vediamo se almeno lui è in condizioni fisiche decenti. Attenzione, il big treno Stroman è in ritardo e sospeso. È infortunato anche. Attendere la prossima comunicazione. Esatto, buonasera. Ti è buoncata una ruota giocando a brisco. No, non credo. Non lo so. Vediamo, vediamo un po' cosa viene fuori sul suo conto. Anche perché adesso parliamo di Raw, visto che martedì non siamo stati in onda perché la mia connessione faceva schifo e non mi sono fidato praticamente a venire in onda a farmi una pezzetta. Ti volevo dire che parliamo di main event perché tanto il livello di main event è incredibile. Tu l'hai visto? Ma secondo me, a parte i finali stupidi che ci sono stati, che sono stati tanti, secondo me è stata una puntata molto migliore rispetto a tutto quello che abbiamo visto negli ultimi due o tre mesi di Raw. Io l'ho trovata, più che altro a me hanno dato fastidio i finali sporchi, nel senso che comunque ne abbiamo visti veramente in enorme quantità. Quello sì. Poi, vabbè, va detto, uno peraltro è stato più che sporco un brutto finale, se vogliamo, uno è stato completamente per sbaglio perché quello che è successo nel match di coppia tra il New Day e Your Business non doveva accadere. Non doveva accadere, cioè il doppio count out non era previsto praticamente, solo che si sono prolungati. C'è un senso che gli chiedessero un altro match subito. Sì, hanno dovuto improvvisare, ne sono usciti così. Tra l'altro il segmento è stato veramente lungo quello di New Day e Your Business perché è durato una buona mezz'ora. Sono durati tantissimo, sono almeno tre pause pubblicitarie almeno ho fatto, una roba del genere. Uno dei match più lunghi di tanto tempo. Sì, e non è stato neanche il match migliore della serata, non è stato un brutto match, però non è stato il match migliore della serata perché Samos contro Ridonov è stato invece il match migliore della serata. è stato anche, ha offerto anche uno dei momenti più belli secondo me dell'intera serata che è il promo backstage tra Samos e Ridonov, non tanto il promo in sé, ma una cosa che ha detto Ridonov che è stata poi tra l'altro anche riportata poi dall'account Twitter da WB e che magari poi dopo vi faremo risentire se ve lo siete persi. No, ripeto, alla fine se andiamo a vedere grandi conseguenze da Survivor Series come ampiamente previsto non ce ne sono state. A parte quella di Strowman, però per il resto... No, vabbè, comunque alla fine è una cosa piccola, però almeno il dire avete vinto, voi cinque vi meritate qualcosa, secondo me è già un passo avanti rispetto a quello che succedeva agli anni passati. Se non vincevi i cinque conti, non cedevo un cazzo. Eh, ma a parte il fatto che potevano dirlo prima, così almeno ci saremmo quantomeno... No, no, ma più che altro, ripeto, quella è l'unica perché poi tutti gli altri l'hanno totalmente ignorata di fatto, o quasi via se vogliamo la questione di Survivor Series. Era ampiamente prevedibile, era ampiamente previsto. Diciamo che sì, questa cosa, questa storia qua, diciamo, del team di Raw che ha vinto in modo talmente dominante che comunque Adam Pierce ha deciso di premiarli mettendoli in contendership per il titolo del mondo, sì, quella è già una cosa positiva. Potevano farlo prima, potevano farlo prima, perché almeno... Perché il problema di Survivor Series, al di là del fatto che comunque, diciamo che della lotta tra Raw e SmackDown non gliene frega una mazza a nessuno, è che non lottano per niente questi qua, cioè non lottano veramente per nessun motivo. Però vabbè, con il seno di poi è facile di dirlo, me ne rendo assolutamente conto. Prossimo anno speriamo che la cosa sia un pochettino migliore, anche perché se no continuiamo veramente a vedere un pay per view completamente inutile. Eh, se non ci sono i dream match diventa un pay per view... boh. Ma anche coi dream match, bene o male, anche coi dream match quantomeno ti facevano qualcosa a livello di rivalità tra i brand, alla fine quest'anno a parte Roman Reigns e McIntyre, a livello di rivalità tra i brand non hanno neanche invaso lo suo avversario, quindi insomma... Non potevano, si può fare più quelle scene adesso. No, vabbè, potevi farne uno o due, non è necessariamente... Sì, no, potevi fare qualche cosa in più, diciamo, tra i singoli lottatori, non necessariamente l'invasione di gruppo con venti persone. Alla fine New Day un po', ma non per il brand, ma solo per il passaggio di consegne piuttosto. Quello sì, quello sì. E non è stato neanche trovato un brutto match, ma l'abbiamo detto martedì sera, niente di clamoroso. E' stato costruito, non sul brand, è stato costruito sul passaggio, diciamo, di onore tra New Day e Mr. Frost. Adesso vediamo SmackDown, perché noi stiamo registrando questa parte prima di SmackDown, come evolve la situazione, come se ne avrà conseguenze. Se Survivor Series avrà conseguenze sullo show, se proseguiranno da Survivor Series con le storyline, o se invece se ne forteranno abbastanza. Beh, c'è la vendetta, la mafia Samoana che dovrà vendicarsi del team, perché ha fatto schifo. Sì. E poi bisogna capire, uno, chi sfiderà nei campioni di coppia, e due, che è la cosa che mi spaventa di più, e vabbè, ci tocca Carmella Sascha, viva il mondo. Eh, quello sai che la stanno costruendo. Carmella di Unprude, praticamente la stessa, però durante la Versace. Stanno costruendo la cosa, quindi bene o male, è abbastanza da mettere in conto, diciamo. Alla fine stavo pensando grandi cose da Raw, a parte, vabbè, la sospensione di Strowman, che non sappiamo cosa ci sia dietro, nel senso, pare che andrà per il titolo TLC, poi hanno detto no, abbia fatto paregire sta voce, che hanno fatto sta cosa, perché si è infortunato il ginocchio durante The Series, e quindi la sospensione sia una copertura, non lo sappiamo in realtà. Mi sembra di sapere anche lo spot, quando si è lanciato il classic, quando lui si butta il paletto a 2000 all'ora, che deve fare, sai, il bump del big man che picchia, probabilmente ha preso il ginocchio, anche. E quindi, vado avanti sul match, e poi gli hanno detto no, ciccio, vado avanti sul match, ok, ma bisogna guardarlo un po'. Vediamo un po' cosa uscirà su questa faccenda. E poi le altre cose di Raw, hanno detto, si è puntato sul lottato, perché comunque abbiamo avuto due match lunghi, molto lunghi, tipo il match per il titolo TLC, e anche Scemo Scontorino, che è stato, secondo me, uno dei migliori match che abbiamo visto a Raw da un bel po' di tempo a questa parte, mi è piaciuto veramente molto, molto, molto. Come? Top 10 di Raw di quest'anno. Sì, può darsi, assolutamente. Sì, adesso stavo dando a memoria un match più bello di questo, a livello, diciamo, di puro lottato, a memoria, non ne ricordo, però, se andiamo, secondo me, 3-4 mesi indietro, probabilmente qualcosa, qualcosa troviamo. Ma ci sono indietro. Come scusa, non ho capito. No, dicevo che magari se andiamo indietro qualcosa di meglio lo troviamo, però sì, di base sono d'accordissimo su quello che hai detto. Assolutamente, assolutamente, assolutamente sì. È stato un ottimo match, ha vinto Riddle, in modo, anche se vogliamo, come posso dire, in modo, in modo sì, se vogliamo, cioè che non seppellisce, diciamo, Seamus, però ha comunque una vittoria pulita. Ho i miei dubbi che se faranno il match lunedì si arriverà una vittoria di Riddle, però vediamo. Anche perché le altre opzioni sono... Se non vince Styles. Age Styles, Age Styles potrebbe essere una buona opzione, sì. Diciamo che dopo lunedì l'impressione che ho è che Lashley andrà contro Kifli per il titolo e magari Riddle farà qualcosa anche lui con l'Earth Business, magari con MVP. E vediamo. Vediamo un po'. Direi che Styles ci sta che abbia una shot titolata. Comunque ha portato il team al cappotto, vince il suo match, è costruito già così, non è che ci voglia tanto. Ma sì, ma poi è comunque, comunque la prospettiva è comunque di un match bello. Oggettivamente abbiamo schivato un proiettile con Strowman McIntyre, non perché McIntyre non poteva portare Strowman ad avere un buon match, ma più che altro perché comunque Strowman è quello che è sul ring. Quindi ho un buon match di wrestling, contando che comunque a TLC il match di merda probabilmente lo avremo e ho molta paura per quel match. Sì, perché abbiamo schivato un proiettile ma in compenso ne abbiamo un altro. Possiamo mettere il sottofondo adeguato. Ecco. Io voglio fare un annuncio. Lui è bene. Voglio fare un annuncio però. Sì. Serio. Sì. Che ho raggiunto il livello Elias con tutto quello che concerne Wyatt e The Fiend. Sì, ok. Quindi d'ora in poi ho deciso che a parte quando guarderò i pay-per-view che purtroppo li guardo live e quindi sui match li devo guardare. Ok. D'ora in poi Wyatt per me farà la stessa, avrà la stessa valenza dei segmenti di Elias e quindi me li zompo a pie pari. Ah. Perché non mi interessa più. Tu pensa che... Arano Tech Team poi. Tu pensa che io invece, come si chiama, The Fiend me lo sono beccato anche... Ah no The Fiend scusami, Elias l'ho beccato anche a main event questa settimana. Eh lo so. È stata una puntata... Un grande main event. È stata una puntata... L'hai visto main event a mercato questa settimana? O hai evitato saggiamente Gianluca? No, ho recuperato qualche immagine. È forse il main event più carico di tutto 2020. Cioè veramente c'è dentro della gente. Penso che sia anche il main event più carico degli ultimi 5-6 anni. Sì, è da quando probabilmente non stanno più sul network con main event che non era effettivamente uno show così carico. Perché abbiamo avuto... Però c'era... A parte dei segmenti... MiZ TV. MiZ TV con la attribution. Sì. Boh. Poi l' Elias. E poi un buon match. Che però... Vabbè, lo puoi mettere in main event. Sì, match francamente onesto. È niente di clamoroso. Però... C'è Jeff Hardy... Ma sai cosa? L'unico problema di Jeff è che gli si vuole bene a Jeff, per l'amor di Dio. Però ormai le prestazioni sono molto calanti. Purtroppo perché... Ma non c'entra niente quello, secondo me, in questo caso, quantomeno. Quello che quantomeno ha urtato un pochettino è il fatto... Cioè quello che secondo me ha rovinato il match, diciamo, dal punto di vista... È girare tutto su Elias. Esatto, con Elias che canta. Cioè non sei gangstas quando attaccano New Jack. Cioè non sei... Non è l'attacco dei gangstas in ECW con Natural Ball Killers di Dr. Brain sottofondo. È Elias che canta durante l'intero match. Vai. L'avevano fatto una volta, questo concept. Che dipendeva dalla gimmick. Sì. Poi l'hanno... Mi ricordo che lo volevano proporre e poi l'hanno levato. Quando Battista era con Devon, di fare Battista che lotta e Devon che faceva il sermone mentre lottavano. Meno male che al tempo dissero no. Forse è meglio guardarlo un momento il match e far vedere uno che distrae. E qua purtroppo succede quello. C'è un match normale. Però cacchio. C'è questo che sona canta e fa la soralella. Che altro poteva anche... Puoi anche dire l'atmosfera del match che comunque è stata rovinata. La famosa... Era un match per mandare avanti la faida tra Jeff e Elias. La famosa atmosfera della festa del Grazie, ricordiamola, visto che siamo anche in zona. Ecco, non l'ho detto prima perché poi abbiamo parlato di altro. Tu non stai bene, Mattia, quest'oggi perché c'è il raffreddore. Io sono pieno perché ho avuto la... Non so se è la buona idea o la pessima idea. È stata un'idea a metà, praticamente, contando... No, il tacchino no. Il tacchino ripieno, assolutamente sì. No, ma tu no. Cosa c'era di avere anch'io? Alla fine non c'era neanche tanto dentro. Perché la ricetta che ho preso era... C'era tipo salsiccia, pane praticamente, e erbette. Quindi comunque non c'era tantissimo. È stato molto buono, tra l'altro. Ecco, manano di erbette. E ovviamente stasera avanzi in burro stile perché comunque ne abbiamo avanzato. Vabbè, ma quello ci sta. Abbiamo avanzato un ciuro, praticamente, e stasera l'abbiamo finito. Però parlando di erbette... Ed è, aggiungo, buono ma pesantino, devo dire. Quindi sono un po' ammigliato, diciamo. Mettiamola così, vai. Guarda, tu sai che potresti usare questa frase? Guarda, io ho preso... Boni, che state parlando in due. State parlando in due. C'era Gianluca. Vai. No, lascio Mattia. Poi dopo dico la connessione. No, volevo dire che io ho preso una tachiperina, quindi se a un certo punto uno dei due sviene per via delle... Ma speriamo di no. Uno sviene per il cibo, l'altro sviene per i medicinali che tramitano soddolenza. Eh, lo so. Va bene, speriamo di no, praticamente, che non si arrivi a... Diciamo... Connettere erbette... Connettere erbette, pesante e strambo, per quello che sarà TLC, il why. Non è un gran why, cioè, Orton e Wyatt ormai l'avevano preparato, lo fai. Però... Però è... Bisogna prepararlo per il suo match. In realtà sai cosa? Io non mi lamento del fatto che faranno Orton e Wyatt, perché comunque... È giusto che lo facciano, l'hai preparato per così tanto tempo e... È una sconfitta Orton più o meno. No, no, a me è quello che... Cioè, per dire... A me in realtà non interessano più... Principalmente le fan house perché le trovo inutili. Cioè, non... Povera rara. Secondo me non hanno... Non aggiungono più nulla a quello che fanno, sono semplicemente dei segmenti che trovo inutili, quindi non ho più voglia di guardarle, ma... È tutto lì alla fine. Poi io, se la gente continua a piacere, continua a piacere il personaggio, io preferisco guardare altro. Ormai ho raggiunto questo zen. Vabbè. Non ho neanche più voglia di parlare, di parlare, di cercare di ragionare su quello che succede con The Fiend. Tanto ormai vedo che... No, ma il character... Guarda, Derek, se ne abbiamo parlato io in un ufficio, diciamo in un ufficio neppioso la mattina con Mattia e anche con Matteo le posizioni, e anche Maggo, le posizioni su questo asset. Perché il personaggio, detto bene, ognuno pensa come vuole, le fan house servono a mandare il personaggio, però uno, giustamente, io lo dico da un po', c'è una buona parte del pubblico che tutte queste cose ne hanno più voglia di seguirlo, lo capisco. Non è due persone. Facciamo un 30% dei fan che a un certo punto hanno detto, ok, fatevi lo vi pare, tanto... Chi se ne frega. Più che altro adesso, tornando a Wyatt, la prospettiva di Wyatt contro Orton è semplicemente agghiacciante, cioè ci sta a livello di storia, però... Eh va bene, hanno trovato la vittima sacrificata, dai, tocca a Orton. Dazzi, ma dati precedenti, quantomeno, non è che abbia sta grande voglia di vedere sto match. Eh, ma lo metteranno... Dai, lo faranno con un po' di fuffa, cioè match in singolo... Ancora più fuffa rispetto a quella che abbiamo visto due anni fa. No, sai qual è il problema? È che almeno due anni fa potevano fare un match competitivo, adesso c'hai uno che non vende. Secondo me sarà quella la cosa peggiore, cioè la cosa che non mi fa propendere alla buona riuscita del match. Poi, oh, magari viene una figata, eh. Ma vediamo, magari mi sbagli. Ricordatevi che Orton ha superato tre finish e ha finito un match. Con i due precedenti, con il match di Wrestlemania, con i Bagherozzi, che i Bagherozzi proiettati sul ring. No, ma, e la House of Horror, diciamo che non abbiamo questi grandissimi precedenti, eh, tra i due. Sì, ma il problema è che hai, hai quei due precedenti tra di loro, più tutti i match che ha fatto The Fiend fino ad ora, che, a parte quello con Brian e in parte quello con Owens, tutti gli altri, definirli brutti è un complimento. Quindi, boh, vediamo che cosa tirano fuori. Diciamo che in questo momento la prospettiva non è che delle migliori. Poi, magari vediamo il pay per view e... Poi, magari ci sorprende. Diciamo che abbiamo le aspettative talmente basse, praticamente, da questa faida, quantomeno, basandoci su, diciamo, su quello che stiamo... Che è successo. Esatto, quello che è successo nei due match precedenti che non abbiamo, come posso dire, non abbiamo la minima... Io non ho la minima voglia, praticamente, di vedere quantomeno questa faida e questo match. però va tenuto alto... No, ma a livello di storia ci sta, perché comunque credo che sia tipo il match per il number one contender, se vogliamo usare questa definizione, aspettando, quantomeno, attendendo, praticamente, come si diceva. Diciamolo in breve. Non è che intera tante strade, nel senso che non c'è un obbligo di levargli il titolo primo di Mania, ci può anche arrivare, perché comunque, ripeto, non serviva Stroma, ci sono strade ampie per fargli fare buone, fai dei match, Stice, ma lo stesso Shimus, ma puoi mettere Keith Lee, cioè c'è gente con cui McIntyre non è che abbia questo bisogno di Wyatt e Stroma, perché Wyatt, come hai detto prima, l'asset Wyatt è, se lo metti con questa gimmick, deve vincere. A meno che non hai il match di Mania e fai quello che era l'anno scorso il piano, cioè gli fai fare il match con loro, magari vinci McIntyre, e lì, buonanotte, cioè da lì in poi questo qua non ha bisogno di nient'altro. E per lo più ammazzi un po' il character, perché quando perde, almeno vai avanti. Se Wyatt va per il titolo, però, non c'è modo, deve vincere. O comunque se perde, basta, perché se perde contro il campione Superface invincibile, è la storia che doveva essere l'anno scorso con Reigns, fine. O lo rifai in un re-package e lo metti da parte. Se non rienta Wyatt vecchio. Tornando alle cose positive di Raw, vi faccio ascoltare quello che è stato, secondo me, il momento più alto dell'intera puntata. Prima cosa prima, non sono il tuo figlio. Secondo tutto... Questo è stato il momento più bello dell'intera puntata. È stata una grandissima citazione. Dal momento, I'm not your bro, e Matt Riddle che fa... Più che altro, come MVP che sta chiaramente per ridere, e si trattiene proprio all'ultimo, perché... Sai che io mi immagino... Secondo me non se l'aspettava, diciamo, l'interruzione da Riddle. Io mi immagino anche che quando Golbert gli ha detto, I'm not your bro, lui gli abbia risposto, oh, but bro... Non credo, sai, anche perché sennò probabilmente non avremmo Matt Riddle in circolazione. No, perché Goldberg ha quel, oh, avrà risposto, ah, yeah! Però non erano, come dire, bravo. Erano, come dire, adesso ti carico con due spire e vediamo se mi fai il bro. Poi, non sapremo mai quanto di quel confronto sia stato quello tra Riddle e Goldberg, che sia stato a favore di camera, perché c'era la telecamera, perché vogliono fare questo... Contando il fatto che Riddle si sta facendo odiare da mezzo spogliatoio, potrebbe non essere stata, diciamo, particolarmente, come posso dire, particolarmente per favore di camera, mettiamola così. Eh, sì, dai. La foto di Seth Rollins con gli occhi chiusi, con Riddle in zona, guardate che è già qualche giorno che gira, adesso vediamo sì, è diventato suo malgrado un meme. Qualcuno ne ha fatto un meme bellissimo. Se non lo guardo va via, se non lo guardo va via, è andato via. Qualcuno ha fatto un meme bellissimo, ha messo praticamente la foto di... cioè, ha riuscito a mettere la foto di Seth Rollins così, cioè, ha occhi chiusi, seriosi, tutto bene, sulla foto di, praticamente, di un ottovolante. Hai presente quando c'è sempre quello con gli occhi chiusi, quando fanno una foto con l'ottomolante? Hanno messo Rollins in questa... Si trova, non mi ricordo dove, se fosse su Twitter si trova. Magari se la trovo poi ve la passo. Altre cose da Raw particolari. Fortunatamente l'ANA contro Ask è durata... è durato pochi secondi, fortunatamente. Però sai che... La prospettiva è ancora più agghiacciante, perché ho seriamente paura che saranno loro a togliere i titoli... I titoli di coppia femminili. Cioè, ecco, io avevamo detto, ok, ce l'hai il modo per chiuderla. Chi mandi una big man a l'ANA che fa il culo a queste due, finiamoli dai titoli di coppia e poi fa il suo act, vediamo dove va, fra due mesi spari danno. Esatto. Asuka? Va veramente Jukebox è diventato, cioè, oltre a fare... Vabbè, però... Asuka non è una grande e grossa, però è la campionessa. Però è l'unica con una credibilità del genere, anche perché non ci sono altre big man. Chi le vuoi dare? Tamina? No, Tamina no. Grazie perché ti ha dato... Asuka è forse l'unica che ha la credibilità per fare una roba del genere. La credibilità sì, però mi stupiva un payoff... Cioè, il payoff di l'ANA che adesso ha trovato la sua amica partner, l'amica partner, cioè ha trovato uno che mena quelle due, e a quel punto la domanda è... Da un protetto è così tanto Shane e Naya? Li facciamo perdere con Asuka e l'ANA? Beh, ma... Allora... Si può stare. Allora, il fatto è che questo, che comunque... Gli ill... Gli ill grandi, cattivi e invincibili sono fatti apposta per poi essere buttati giù da qualcuno, quindi, sotto quell'aspetto, cioè, secondo me non è un problema. Poi diciamo, ci siamo lamentati fino all'altro ieri di Naya Jax, adesso non è che possiamo... Infatti, non è che possiamo stare lì a... A lamentarci che questa qui viene sconfitta da una come... No, no, l'hanno anche protetta anche troppo. Esatto, appunto. È lo stesso... È il solito discorso un il... Cioè, anche Bobby Lashley, Bobby Lashley è così protetto in questo momento perché sanno che quando arriverà il babyface giusto che romperà la hardlock e riuscirà a sopravvivere all'hardlock e lo batterà, sarà una cosa grossa. Cosa che è già successo, praticamente, che Kifli riuscisse comunque a evitare la hardlock. È vero che non l'aveva chiusa. Ma è giusto. Lì è giusto, ve lo dice anche un fan di Lashley, è giusto dropparlo perché serve a Kifli e basta. Non c'è neanche spiegare. È tutto giusto. Però nella storia del wrestling un heel lo costruisci in maniera forte perché poi arriverà un babyface che lo batterà. No, no, ma quello sì. Perché se comunque gli dai titoli vorrei capire quelle cose che saranno, le bellissime dinamiche a scalana. Poi magari viene una bellezza. Ma magari lo perdono subito. C'è semplicemente un modo per dare una rivincita morale a Lana e poi lo riperde subito. Ma sì, ma tanto se lo dai, se fai ad Asuka il doppio titolo... Alla fine quello che fanno con Lana è una merissima rivincita della nerd contro i bulli. Sì, la nerd che rompe le palle, si hai ragione. Però vabbè, ma ci sta. Mi sono solo stupito Asuka perché poi la dinamica che poi Asuka il doppio titolo non è che se lo porta, troveranno qualcun altro e Lana, rivederci, ha dato il tuo grazie. No, via. Ma nel senso, ha fatto il suo stint, ha fatto il suo lavoro, fine. Mi stupisce la campionessa di coppia che poi comunque, visto che manca la gente a rock, comunque vanno a fare faida con la campionessa perché non c'è gente e le uniche serie su loro tocca a loro. E Reckoning niente. Sì, Reckoning... No, magari con Reckoning lo fanno il match. Beh, Reckoning ha prima, diciamo, da fare con Dana Brooke, probabilmente, visto che comunque è stata lei. È, quello. Ha infortunato. Ha trovato qualcosa da farmi fare. A togliere la Survival Series, quindi mi sa che sarà prima una questione tra quelle due, dovessi dire. Però, per quanto riguarda il titolo femminile, adesso vediamo un attimo cosa esce. Eh, vabbè, fanno questo perché non c'hanno niente. C'è sempre la regina che prima o poi deve tornare, eh? Eh, ma la regina ormai mi sa che torna alla Royal Rumble, quindi vediamo se torna, eh, ovviamente, se ritorna. Penso che ritorni. Diciamo che un'altra cosa della puntata di Raw che è apparsa, è apparsa, cioè, sempre dalla puntata di Raw di Nuoedì, parlano sempre di donne, e che il vizio praticamente di bucare i babyface come dei totali imbecilli non l'hanno perso. Vedi, Nicky Cross, per esempio, al di là del fatto gli hanno cambiato la film song, la nuova film song, fa schifo. È orribile. No, è classica, film song da, diciamo... Genericissima. Generica da Matti, innanzitutto, ma poi proprio neanche, cioè, proprio a nulla. Non c'è da niente col personaggio. Non c'è da assolutamente nulla col personaggio. Assolutamente nulla. La canzone che aveva prima in quella maniera era molto twisted. Sì, sai cosa? Più che altro era un rimasuglio della film dei sanity, se vogliamo. Certo, ci stava. No, ma ci sta, ci sta. Ci sta. Esatto. Adesso... Questa sembra la canzoncina pop, la canzoncina pop della ragazzina. Sì, che vuole farla... È una roba, non voglio dire tipo Avril Lavigne, perché non c'è da un cazzo, però... No, più... più Miley Cyrus quando facevano a Montana. Sheryl Crow, sai? Sheryl Crow. Forse più... Forse più... Michelle Branch anche. Madonna che... Ma ce l'avevano la tiglia, l'ho tirato fuori. Voi sapete benissimo che chi ci ascolta probabilmente non ha la minima idea di chi stiamo parlando, probabilmente, specialmente nel caso di Michelle Branch. Gli altri... Le altre tre magari sì, ma Michelle Branch... Michelle Branch è quella che è conosciuta per una canzone che è quella Cause you're everywhere to me. Che se siete tifosi calcistici ricorderete perché un anno fu usata come sigla della Serie A. Basta. è l'ultimo barlume di notorietà che ha avuto. Michelle Branch è proprio generazione MTV. MTV quando... Ma infatti era nella colorazione dei primi tre American Pie. Esatto, esattamente. No, comunque, no. Cioè... Capisco la storia che vogliono portare avanti con la Bliss e la Cross, però veramente... Cioè, la cosa che mi ha fatto più effetto, sai qual è stata? Non tanto... Non tanto Nicky Cross che è caduta come un imbecille praticamente al trucco di Alexa Bliss, ma il fatto che anche i commentatori hanno seppellita poi. Se tu senti sexo dici, eh sì, è stata un po' ingenua Nicky Cross. Dici? Dici? Ha creduto nel valore dell'amicizia. Esatto. Esatto, sì, esatto. Che è stato un po' il tema della puntata con la Farfay Funhouse il fatto che l'amicizia è completamente inutile. No, solo per uccidere una lana. E vabbè... Che vi devo dire? A questo proposito abbiamo perso un personaggio storico della Funhouse che abbiamo visto solamente una volta ma che è già morto durante la prima la sua prima apparizione ovvero la rana la rana dell'amicizia la French Prog la French Prog che purtroppo purtroppo si ha lasciato durante la durante la puntata la Fale Compagnia a Tricchieco che però non è mai morto è tornato nel suo pianeta Il Tricchieco pare che l'abbiano che l'abbiano tolto di mezzo cioè che non sia più proposto all'interno della Farfay Funhouse perché ovviamente è saltata la faida tra Roman Reigns e Bray Wyatt perché comunque sono anche i roster differenti draftato esatto e quindi praticamente visto che questa cosa doveva portare a una faida tra Bray Wyatt e Roman Reigns hanno tolto di mezzo hanno fatto direttamente che togliere di mezzo il personaggio dopo un'apparizione molto senza neanche ucciderlo giustamente va bene così si è apparso e poi non si è non si è più visto non si è più fatto vedere è tornato nel suo pianeta esatto più o meno non so se è tornato nel suo pianeta che è un po' la dimostrazione del fatto che con Wyatt non sanno dove andare a parare fa almeno tre mesi contando con tutto il switch che hanno fatto più o meno ha fatto un innesimo switch diciamo così che ne hanno fatti tanti stavo cercando se magari stavo cercando se magari Bray Wyatt nella pagina di WB Shop non ci fosse magari qualche qualche ricordo appunto diciamo della rana della rana della rana della rana dell'amicizia come scusate la maglietta del tricheco l'avevano fatta e poi l'avevano fatta premisa subito però l'avevano fatta la maglietta col tricheco l'avevano fatta sì sì vabbè perché avevano idee quando ha cambiato anche perché hanno cambiato proprio di roster i due e meno male sì esatto esattamente ah no c'è la maglietta c'è la maglietta di Wobbly Wobbles eccola qui c'è ancora c'è ancora fa schifo il cazzo adesso ve la passo però però è ancora regolarmente vedo guarda che schifezza di maglietta 25 25 euro c'è anche disponibile il pagamento a rate per chi per chi vuole veramente andare ma come poi pagare la rate non sapete non sapete che c'è che su WB Shop c'è il pagamento a rate adesso possibile no mi fa schifo questa maglietta ma l'era una schifo al cazzo vabbè scusa ma l'ero dimenticata nel cervello no adesso non ci dormo più non è non è la roba più brutta che hanno fatto uscire su WB Shop perché secondo me il marsupio di The Fiend che puoi vedere che puoi vedere qua secondo me li batte tutti aspetto prossimi marsupi aspetto prossimi marsupi io sono comunque uno che non gli schifa i marsupi però cioè questo è veramente brutto sono effettivamente sono molto utili ma sono anche effettivamente anti estetici da matti pensandoci i marsupi andando a vedere come dico come dico sempre preferisco preferisco essere comodo io quello sì quello quello non lo metto però è meglio è meglio il borsello se vogliamo è brutto uguale però però almeno è leggermente più presentabile quantomeno in quanto magliette brutte vedo che WB Shop si sta abbastanza scatenando mamma mia quella di questo in questo in questo beh oddio anche quella nuova di dunque dei profits sì no a parte quello ma anche quella nuova di Shozzi che adesso ti passo diciamo che non è da meno in quanto in quanto bruttezza effettivamente tanto Shozzi che ha fatto una citazione bellissima sì siamo passati a Conan in Spapparo direttamente esatto nello spot di nello spot di un War Games che ricordiamo non ha il minimo motivo di esistere però in logica però una cosa che mi fa più ridere che invece che cos'è che era Crash Your Enemy la frase è abbastanza simile se vai praticamente invece che dire the women ha detto the people sì the people esatto qualcosa del genere poi vabbè parliamo di parliamo di mi fa piacere vedere che comunque abbia ampiamente superato diciamo la distruzione del suo caro amato costruendosene direttamente un altro così alla fine dopo due settimane di pianti però sarà più grosso questo entra con un caro amato normale probabilmente ma non ci sta come fa ad entrare con un caro amato tipo rusev vedrai come fa ad entrare al performance center non ci sta fisicamente e comunque Crash Crash Your Enemy Crash Your Enemy to see them driven before you and hear the lamentation of the women sì invece che hear the lamentation of the people e the lamentation of the women perché comunque è un War Games su me ne parliamo poi quando arriviamo quando arriviamo a NXT altre cose da Rodi questa settimana ripeto un po' troppi finali sporchi il problema non è finale sporchi in sé il problema è farne tanti nella stessa puntata quando vedi due tre quattro finali sporchi ti rompi anche le balle un finale sporco a puntata ci può non è grave la cosa perché comunque vedi anche altre situazioni quando ne vedi due tre quattro ecco per esempio anche quello anche quello del match di Lashley mi sembra no sì era Lashley contro Lashley contro chi era contro Keith Lee che è finito in modo completamente insensato peraltro con l'inserimento di MVP tra l'altro cretino è il tipico finale che affossa anche l'heel perché comunque fa perdere la shot a l'heel esatto ma proprio non ha neanche il minimo senso a livello di a livello di interruzione proprio a livello di logica in chiave marca cioè perché MVP dovrebbe intervenire per di fatto costare in match il suo assistito non ha il minimo senso quindi sì non ho ben capito l'MVP screw job che vi devo dire perché l'hanno fatto vabbè ma un fan di Lashley ci deve trovare qualcosa perché io non lo so non mi sono posto la domanda ho detto vabbè non era non era serata vabbò altre cose da Raw stavo pensando non me ne vengono in mente perché comunque bene o male alla fine cominciamo la marcia d'avvicinamento verso TLC che è in programma a fine praticamente a fine dicembre perché è il 20 mi sembra il 20 dicembre 5 giorni prima di Natale c'è TLC vabbè vediamo vediamo che succede vediamo che match ci proporranno credo che anche in questo caso mi sa che sarà Smackdown a trainare il pay per view dal punto di vista qualitativo poi vediamo ovviamente i match per quanto riguarda Smackdown pretendo che stiamo stiamo giudicando prima di vedere la puntata poi ne parleremo ne parleremo anche dopo non è detto che Roman Reigns contro Daniel Bryan sia già TLC nel momento in cui parliamo poi magari più tardi a Smackdown cominciano già la faida giravoce che possa essere un pochettino più avanti può essere può essere TLC ma possono anche non farlo e farlo poi alla Royal Rumble o magari anche più avanti è previsto ma pare sia previsto non è automatico che sia TLC può essere anche benissimo più avanti può essere anche benissimo tipo la Royal Rumble la Royal Rumble diciamo che avresti le due la Royal Rumble e Roman Reigns contro Daniel Bryan come match a trainare non sei messo male e match di McIntyre e match di McIntyre qualunque esso sia naturalmente quindi non sei messo male da quel punto di vista potenzialmente se sarà effettivamente ma se non è Strowman va bene tutto come Strowman solo a parte che sia match se Strowman salta TLC e ce lo becchiamo alla Royal Rumble diciamo il problema di Strowman sai qual è il solito discorso cioè ok è stato campione fino è stato campione quest'anno compice la pandemia però specialmente in questo momento qualcuno dà seriamente speranza a Strowman di vincere il titolo cioè magari col fatto che col fatto che ha vinto il titolo quest'anno che ha vinto il titolo un paio di mesi beh un paio di mesi è un cavolo no si l'ha perso l'ha perso a settembre l'ha perso a settembre a settembre dopo SummerSlam si l'ha perso a SummerSlam l'ha perso l'ha perso a SummerSlam no l'ha perso quando ho fatto l'ha perso a SummerSlam con The Fiend poi l'ha fatto poi ha fatto chiaro di match ah ok si l'ha perso con The Fiend poi The Fiend l'ha perso a settimana dopo giusto giusto osservazione l'ha tenuta praticamente tutta primavera l'ha tenuta tutta primavera certo il discorso che volevo fare era però ok adesso con questo Drew McIntyre qualcuno dà possibilità serie a Strowman di vincere il titolo nonostante abbia tenuto il titolo non ce l'ho più spesso ma sai che secondo se lo fanno a Western Media secondo me vince vince ancora McIntyre sai secondo me non credo sai non credo non credo non credo ci starebbe è quello dell'anno scorso alla fine cioè il Faist che non ha paura di defendere per la prima volta lo batte e poi fanno qualcosa di nuovo eh non credo non credo sai sarei sarei stupito ma non credo non credo sia non credo sia poi se vince dei film non è veramente nessuno per levarglielo il problema di Wyatt è il solito problema che abbiamo detto cioè ormai l'hai creato talmente troppo potente come personaggio che dura anche spiegare quando perde il problema e poi paradossalmente l'hai diciamo l'hai l'hai fatto già battere da due persone da Goldberg e da Seth Rollins ma da Seth Rollins ci sta anche che alla fine dopo alla fine alla fine no chi è che ha battuto The Finder Roma è riuscito a fregarlo perché comunque ho capito sì ok lì ho risposto sì esatto non è risposto 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 ha capito come vince non ce l'ha detto giustamente non ci ha detto giustamente hai visto aspettare fino all'ultimo e poi dire ragazzi è un triple threat non ve ne siete accorti sì diciamo che diciamo che avrebbe effettivamente motivi motivi The Finder per una vendetta su Roman Reigns però i roster diversi quindi a meno che a meno che non vinca la Royal Rumble e allora in quel caso potrebbe benissimo andare contro Roman Reigns no dai ce l'hai già la storyline lì non c'è Wyatt va bene con me non mettiamolo correndo la storyline di Roman ha solo un problema c'è questa persona a WrestleMania o no è quel problema appunto stai saltando stai saltando stai saltando Gianluca ripeti quello che dicevo il piano BCDF è quella la tavolata chi c'è in fondo la tavolata Samoana eh più che in fondo la tavolata mi sa che è quello che fornisce direttamente il tavolo e lo compra in caso di in caso di particolare però bisogna capirlo perché se non c'è troviamo il piano B e vale tutto da Brian a The Fiend a chiunque volete a Big E Big E che vince l'ora è a Rumble esatto devi costruirlo un po' però dimenticavo dimenticavo che il suo nome non è Big E ma è Ettore giustamente Ettore devi costruirlo esatto mandi qualcosa prima sì certamente non lo metto non lo metto non lo metto in dubbio un bel match con Ettore che torna col fatto va bene no altre cose di Ron non mi pare che ne abbiamo facciamo uno stick match con Ettore che alla fine uno cosa scusa uno stick match cos'è uno stick match un candlestick match ah un candlestick ok con Ettore che non usa la candlestick va bene Ettore usa qualcos'altro che potrebbe avere va bene non ci interessa grazie grazie mille mamma mia va bene direi che possiamo possiamo tranquillamente passare oltre e passiamo alla guerra del mercoledì sera passiamo alla questione tra AW e NXT della quale non abbiamo un vincitore questa settimana per il semplice motivo che essendoci stata la festa del ringraziamento i rating li sapremo solamente per voi che ci ascoltate lunedì oggi quindi questa sera lunedì sera usciranno i rating del mercoledì perché come spesso accade sotto la festa del ringraziamento i rating americani subiscono diciamo un lieve ritardo anzi un lieve un discreto ritardo per quanto riguarda la diffusione a meno per quanto riguarda i canali via cavo per quanto riguarda la tv per quanto riguarda la tv via cavo per quanto riguarda la tv in chiaro continueranno sempre a uscire i risultati i cosiddetti fast national il giorno dopo quindi quindi sabato cioè al sabato sono usciti quelli di di smackdown del giorno prima però il dato preciso per quanto riguarda per quanto riguarda il risultato finale di smackdown con il risultato che ultimamente tra l'altro è sempre più alto del fast national per quanto riguarda i programmi televisivi del venerdì sera a meno per quanto riguarda i canali in chiaro quelli usciranno probabilmente martedì o mercoledì dovessi dire stesso discorso per quanto riguarda il rating di Raw il rating di Raw questa settimana non usciranno il martedì ma usciranno il mercoledì quindi domani sera quando ci troveremo per fare il post show di Monday Night Raw dopo le partite condizioni permettendo non avremo il rating della puntata di Raw ma lo sapremo solamente il giorno dopo è stata una puntata cominciamo da NXT come sempre così almeno se Mattia si addormenta poi possiamo lasciare andare a dormire no dicevo è stata una puntata di NXT particolare perché c'è stato sull'ottato un gran match che è stato il main event il main event della puntata e poi c'è stato un segmento che io personalmente ho detestato per un motivo concettuale più che altro che è il KO show con Kevin Owens e con praticamente i tre i tre contendenti intorno al titolo donna americana il che non vuol dire che sia stata una brutta puntata anzi è stata una buona puntata in generale però quel segmento io proprio a livello a livello concettuale lo detesto perché non voglio vedere quella roba lì a NXT lo capisco che sia una cosa che vedrò solo questa settimana perché c'era Owens settimana prossima Owens non ci sarà ma è proprio quel segmento lì che non mi è proprio piaciuto anche perché è durato un'eternità e poi c'è un altro problema che poi secondo me hanno sbagliato hanno sbagliato a farlo così lungo però alla fine ci sono delle cose che a me hanno fatto sorridere tutto il metatesto con Owens che tipo continuava a dire non dire il nome che sennò in tre secondi parte la team song uno, due, tre partiva la team song quello mi ha fatto sorridere ok perché le cose metatrestuali mi fanno sempre le sfumature di Oss sono belle ok però comunque le hanno fatte alla fine si fai il segmento meta quanto ti pare però alla fine quelle robe lì le hai fatte poi c'è un altro problema sul titolo nordamericano a me personalmente è una mia questione personale a me non piace quello che stanno facendo con il titolo nordamericano lo stanno trasformato in una buffonata non sono convinto sia la scelta migliore per quanto riguarda il titolo il titolo nordamericano che è comunque un titolo secondario ma comunque un titolo secondario che ha una sua importanza quantomeno a NXT e vediamo adesso cosa fanno a TakeOver a livello di risultato quantomeno in questo in questo match se poi soprattutto il titolo tornerà intorno alla vita di Johnny Gargano come peraltro penso perché mi sa che sono dalla parte di Mattia in questo mi sa che vedremo il famoso il famoso secondo killer di Scream in quello di oddio l'abbiamo già visto in realtà però non sappiamo chi sia praticamente questa persona però credo che verrà rivelata al paper view secondo me è palese che è theory a questo punto non so se sia palese che sia theory però potrebbe benissimo manca troppo tempo che ci sta perché per l'amor di dio una cosa che avevo notato una cosa che ha senso vai vai una cosa che è un po' comunque la paura che lui dicesse io quitto me ne vado e poi giorno dopo e poi la puntata dopo ritornasse era palpabile anche perché di fatto è tornato la settimana dopo travestito però è tornato la settimana dopo no due settimane dopo è tornato no quando è che hanno fatto il match due settimane due settimane dopo hanno fatto allora due settimane dopo hanno fatto Halloween Avo che poi lui non sa più visto intanto vedo purtroppo me ne sono accorto in ritardo c'è un filmone in onda in questo momento sul 20 che è Doom con il vero capotavola Samoano che è un vero proprio capolavoro del cinema del cinema mondiale no vabbè tornando tornando a NXT Gianluca tu hai visto la puntata di NXT di questa di questa settimana non ho recuperata un po' l'unica cosa che non ho visto e che poi mi sono trovato la mattina dopo leggendo è Hour Games Femminile ah no è quello non c'è la settimana scorsa sì non c'è non c'è di fatto vero e proprio motivo per cui questo match sia un War Games a parte a parte a parte a parte il fatto che ok facciamo War Games ce ne vanno per forza due uno deve essere femminile però a parte quello a livello di a livello di rivalità quantomeno di base non c'è un motivo non c'è un motivo di avere un War Games a squadra in teoria adesso le stanno costruendo adesso le squadre naturalmente e tra l'altro ecco volevo chiedere a Mattia sulla questione di Tony Storm perché mi è sembrato abbastanza casaccio il suo passaggio Hill non vorrei che fosse proprio ok non ci fidiamo di Indy Artwell nel War Games giriamo il Tony Storm secondo me era già previsto che Indy Artwell non dovesse essere nel War Games ok e l'avevo già detto settimana scorsa la cosa di Tony Storm vediamo come la spiegano di base comunque di base non l'hanno spiegata per ora di base non l'hanno spiegata ancora ve l'avevo detto che avreste visto una Tony Storm diversa vediamo quale sarà la sua motivazione è uno shocker a me non è spiaciuto più che altro c'è un'altra cosa che posso dire che comunque io non aveva più avversarie perché comunque c'era Amber Moon che è Babyface sì Dakota l'ha già battuta Candice l'ha battuta più volte se la prossima deve essere Tony almeno che sia Hill non era obbligatorio secondo me però girare la Hill però non puoi fare sempre Babyface contro non puoi fare sempre Babyface contro ho capito però non è che poi ho capito però che non è che puoi girare tutti Hill però cioè alla fin fine diventa la promosione ho capito però almeno hai almeno della nuova gente dei nuovi Hill cioè non puoi avere sempre i soliti ma ne hai già ok per carità non è quello il discorso secondo me non è necessario fare per forza face contro Hill in questo caso quantomeno anche perché comunque Tony Storm è appena tornata ce l'ha trovato veramente da da due settimane l'hai già girata Hill cioè non ho capito francamente il motivo diciamo di questo di questo di questo atteggiamento gli fa il personaggio gli fa un personaggio nuovo io non ci vedo questo gran problema di averla girata Hill sinceramente non mi lascia mi lascia per plesso ma potevi dargliela comunque senza girarla cioè quello è il punto cioè mi sembra farla tornare non le dai neanche il tempo praticamente di diciamo di farsi presentare di farsi conoscere la giri già cioè non non mi è cioè non sto dicendo era già affermata NXT questa qua ha vinto NXT UK ha NXT UK non NXT normale ha NXT UK non NXT normale ha vinto anche il Mayan Classic questa qua sì ma NXT normale quanto l'abbiamo vista tre settimane praticamente non è che l'abbiamo vista sei mesi affermata insomma fino a un certo punto poi comunque è stata fuori quanto tempo è stata fuori sei mesi dagli il tempo quantomeno cioè di diciamo di 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 riambientarsi mettiamo da così per me non è assolutamente un problema è una cosa per me può diventarlo cioè è una scelta è una scelta che mi è sembrata ripeto una scelta del tipo ok dobbiamo togliere di mezzo indie art e chi abbiamo ok non abbiamo nessuno beh prendiamo togli sto ragioniamo era già fatto indie art non sarebbe entrata nelle war games ma perché sei convinto di questa cosa perché non è non è non è e allora non la metti con Candice la re in storylines ma porca puttana te l'ho detto l'altro giorno la metti con Candice la Candice la usa come chioccia non è che devi per forza buttarla nella mischia subito ma se sai già che fai un war games no se sai già che fai un war games perché ti metti Candice la re al fianco con indie art se sai che non la usi poi indie art ma non la usi in caso non la usi nel war games ma non è che non la stanno usando in war games da una mano a Candice blocca qualcuno puoi usarla non è che non la stanno usando semplicemente hanno detto semplicemente questa qui non è ancora pronta ma è davvero così grave metterla nel war games tanto può far benissimo un cazzo anche all'interno nel war games perché tanto è un match in 4 contro 4 in una gabbia è davvero così grave metterla in un war games è quello che mi chiedo ma ha senso col fatto che i Garganos hanno comunque degli aiutanti ce l'ha avrà Gargano ce l'ha anche Candice è perfetto la metti nel war games ce la metti nel war games non le fai fare niente ma non la metti nel war games ma perché non la metti non fa niente all'interno della gabbia ma non è vero ma non è vero ma non è vero cosa sono in 8 in 2 gabbie non è necessario che facciano sono in 8 in 2 gabbie non è obbligatorio che facciano la 450 splash tutti quanti per dire puoi anche farle fare un match normale senza necessariamente che diciamo che vengasse arrivato non è obbligatorio che facciano tutti ma li hai visti ma li hai visti cioè nei war games è vero che la gente non fa niente ho detto scusate ho partito d'effetto scusami un attimo scusami vai ma non è vero che nei war games la gente non fa nulla o rimane ferma sono tutti attivi ho detto può non far niente non ho detto che debba non debba fare niente per tutto il match però per gran parte del match può anche non far nulla all'interno del war games no perché non lottano tutti guarda che non lottano tutti e 8 non lottano tutti e 8 in contemporanea all'interno del war games lottano in parte in 2 o 3 e molti parti in 2 qua non entra per ultima la butterai seconda terza non puoi lasciare le fai iniziare il match le fai prendere delle botte e poi quando c'è il momento di equilibrio quando c'è il momento di equilibrio non le fa fare niente no 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 non ha il minimo senso sta qua è una che deve ancora crescere oggettivamente fa praticamente da manager la metti dopo il war games che senso ha o ucciderai subito allora non vuoi fare questa cosa la metti dopo il war games non la metti subito perché tanto quella è un spreco ma ci stanno i garganos che hanno gli aiutanti la fai arrivare al war games e le fai arrivare al war games fai vincere il gargano al war games con il suo aiuto non la fai arrivare adesso che poi devi toglierla ma non la stai togliendo cosa stai dicendo e si che la stai togliendo 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 in 4 settimana prima sta lì ma non entra nella gabbia magari entra per fare uno spot e poi esce ma se fa il match non è che deve stare 2 minuti e morire in tutti i war games ognuno fa 20 minuti di match ma non è vero ma non è assolutamente vero ma non è vero ma non è vero se tu vuoi vedere non è vero che fanno tutti i 20 minuti che stai a dire ma e c'è scusa entrano e comunque ci sono dei minuti dove devono fare ma non notano mai tutti e 8 in contemporanea all'interno dei war games ci si sente che sta fuori qualcosa dovrà fare questa qui certo per carità ok per carità ma non deve lottare su 35 minuti su 35 minuti non deve lottare 30 può anche lottare 7 o 8 non è obbligatorio si fa i suoi atti servisse una persona di più va bene Tony Storm ho capito però il mio discorso è se sai se sai che fai war games alla fine perché lo sapevano che evidentemente che facevano i war games mi sembra un spreco iniziare una storyline con Indy Arthur che poi comunque deve rimanere fuori da questo match per metterci Tony Storm non c'entra niente in questa fai dalla fin fine almeno almeno per il momento poi vediamo come la spiegano naturalmente perché comunque a me mi sembra che comunque il need più grande piuttosto che pensare in Indy Arthur è trovare avversari per io e Tony benissimo l'avversario per io ce l'avevano anche Amber Moon la stanno massacrando a livello di booking non so non so che intenzioni abbiano con lei probabilmente la sfida di Amber Moon perché Amber Moon qualcuno pensa sia un fenomeno non vogliono non vogliono fare ancora face contro face contando che l'hanno appena fatto e quindi non vogliono girare di Amber Moon girare di Amber Moon girare di Amber Moon come che poi anche lì non è obbligatorio fare comunque face contro face cioè non è che stiamo di fronte a face contro face tipo tipo anni 90 sono comunque personaggi con sfaccettature tutto sommato la stessa Amber Moon tanto tanto face cioè tanto face tradizionale non è che mi sembra contando contando anche il modo in cui la stiamo non so se noi siamo lì però purtroppo capisco il punto però te lo rigiro cito l'altra compagnia c'è stato un mini event dove comunque fino a due settimane fa erano tutti ill hanno fatto dei cambi di allineamento in base alla storyline Tony Storm lo stesso può farlo in Bermuda e non lo ritengono che debba arrivare a fare un turn perché magari serve da face con la cinese ok se è un turn momentaneo benissimo va bene è una cosa un po' repentina però miglioriamo anche il match però può andare può essere un turn momentaneo effettivamente miglioriamo il match e copriamo il need più importante piuttosto che in The Hartwell che c'è tempo io ho bisogno di avversari io Tony Storm non lo schifo dai non funzionerà magari di più comunque aveva senso però permettimi scusami un'altra Tony Storm però attenzione a questo punto però vuol dire che gli ille vincono Wargames perché se mi devi lanciare Tony Storm comunque come prossimo avversario di Ushirai ha più senso che vinca il Wargames evidentemente che non che lo perda siamo sicuri che vanno a vincere gli ille in questo match in questo Wargames quello no ma infatti non penso che vinceranno ecco perfetto non credo neanche io ma alla fine Tony farà una buona figura ma vinceranno non è nemmeno detto che contando quello che hanno fatto questa settimana che Ushirai non ci sia in questo Wargames anzi pensando Ushirai ci sarà in questo Wargames appunto ci sarà anche Rhea Ripley però in questo Wargames ma infatti Rhea Rhea fa cioè i team sono abbastanza chiari Ushirai Rhea Ripley Schozzi e Mermun Schozzi e Mermun esattamente il discorso è appunto chi vince questo tipo di match a questo punto mi sembra strano in teoria dovrebbero vincere gli ille in pratica solitamente il Wargames in teoria non lo so per la storia che tu hai raccontato in teoria dovrebbero vincere i face perché comunque c'è la vendetta dei face c'è la vendetta di Schozzi che ha avuto diciamo il caro armatino sfondato e quindi adesso adesso vuole veneta in più c'hai però se c'hai dentro se c'hai dentro io è giusto che gli ille dovrebbero vincere per questo ieri dei degli avversari a io contrario cioè contrario gli ille dovrebbero vincere per trovare gli avversari gli ille dovrebbero vincere per sostituire degli avversari a io ok però siamo sicuri che ce l'avvenga ho i miei dubbi che ce l'avvenga in teoria sì da logica da logica sì da logica sì da logica sì sono abbastanza scettico però vediamo vediamo naturalmente vediamo vediamo hanno tutte e due le strade il match comunque a livello qualitativo dovrebbe essere dovrebbe essere ottimo su questo siamo tutti d'accordo no problema poi vabbè è un wargames quindi comunque ci sarà si farà ricorso ampiamente all'utilizzo all'utilizzo di armi e di oggetti di oggetti contundenti quindi anche in quell'altro in quell'altro talmente fatto bene che l'altro ecco l'altro chi lo vince l'altro chi lo vince il match lo vincerà di Spilidera di nuovo o lo vincono gli ille no vincono in Spilidera ce l'hai il momento quando però ecco secondo me dipende solo da una cosa dipende solo se vogliono fare avanti questa cosa o no perché se fai secondo me ti dico di più secondo me McAfee non entra nel match può anche abbandonarli effettivamente può farlo no perché potrebbero benissimo fare che quello non era McAfee sì il quarto sì ok è ovvio che era lui però possono anche eventualmente spiegare bisogna bisogna fare lo sverbole dicendo che McAfee non c'è gli mettono un quarto che diventa il quarto il nome del team è il suo ma non è diventa il manager dei quattro che poi non arrivano a Adam Cole contro McAfee poi a quel punto la domanda è chi chi è questa persona quello è un altro poi c'è sempre eventualmente c'è sempre eventualmente scusami ti ho portato sopra dicevi no dicevo quello è un'altra domanda che non ti so qui non saprei dare risposta però il fatto che questa volta il fatto che l'hanno fatto apparire mascherato sì a me cioè il fatto che se quello era McAfee e io anche io penso che sia McAfee era chiaramente McAfee la storyline McAfee che dice no guardate me lo guardo da casa poi la fine interviene con la maschera esatto ok può essere quella però può anche essere che nella mia mente malata nella mia mente malata ho pensato ok possono fare questa cosa ma allo stesso momento possono farlo apparire mascherato tutti crediamo che sia McAfee e poi in realtà si scopre che è un quinto che è un quinto che si è finto McAfee per fregare si è finto McAfee perché poi nel wargames invece che entrare McAfee entrerà lui così McAfee può dire io non ho perso può essere però secondo me la stai pensando un po' troppo sta cosa secondo me è molto più semplice comunque se vuoi vincere l'handis più di terra perché le stanno prendendo troppe in questo periodo beh è normale è normale che diciamo è normale che avrebbero è normale vedervi sconfitti in uno scenario come quello di mercoledì più che altro perché comunque gli Hill hanno sempre vantaggio sì però è comunque un mese è più di un mese che i Kings settimana scorsa quando sono tornati no settimana scorsa quando sono tornati hanno avuto prima scorsa no però prima sì prima sì prima hai avuto l'attacco a Kyle l'attacco a Bobby Fish l'attacco a Kyle l'attacco a Dan Cole che è rimasto Dan Cole è rimasto fuori due mesi praticamente sì un po' meno forse se vado a pensare perché onestamente non mi ricordo può essere comunque Dan Cole è rimasto praticamente l'ultima apparizione di Adam Cole è stata sì sarà un mesetto fa o giù di lì se non ricordo no è NXT a TakeOver 31 TakeOver 31 quando era? quando è stato? TakeOver 31 era il ottobre mi sembra 4 ottobre sì due mesi quasi due mesi non due mesi però quasi due mesi mesetto e mezzo via poco più di un mesetto e mezzo quasi due mesi alla fine a livello a livello di calendario no il mio dubbio è una situazione di questo tipo se tu fai vincere a Nisputidera secondo me secondo me vuol dire che la fai da finisce qua praticamente cioè o meglio no secondo me posso andare avanti eh lo so però se ha più senso secondo me cioè formi una stable nuova la fai già perdere al primo match mi sembra più grado perché ragiono in termini abbastanza tradizionali mi rendo conto quindi mi sembra strano che è una stable nuova va detto è un wargames quindi comunque è un match particolare quanto vogliamo ti dico un altro motivo per cui penso che vincere a Nisputidera perché hanno già fatto il i kings hanno già fatto il funerale e quindi se li battono di nuovo praticamente è come se il loro funerale fosse l'ennesima prova che loro hanno distrutto la Nisputidera quindi secondo me non faranno questa cosa e poi comunque andranno avanti in un modo o nell'altro bisogna vedere come tu escludi che ci possa essere un tradimento all'interno della Nisputidera sì ok vediamo se sarà effettivamente sì perché non avrebbe senso la cosa non ho mai fermata in passato va detto però però sì no non lo so dipende 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 chi dipende chi chi questa persona poi può anche essere semplicemente mi hanno pagato bene boh cioè può anche essere semplicemente quella la motivazione se andiamo a vedere però sì di base se devo fare un tradimento devo spiegarlo bene quello quello sicuramente sul resto vediamo cosa succede anche quello penso che sarà un buon match vediamo come lo gestiscono anche a livello di personaggi all'interno all'interno della gabbia l'altra cosa di takeover è il match per il titolo nordamericano ripeto non mi sta piacendo il modo in cui stanno gestendo stanno gestendo il titolo o stanno gestendo più che altro Leon Ruff alla fine mi sta bene che questo sia un jobber però alla fin fine mi sembra che lo stiano dipingendo troppo come un jobber e sia proprio diciamo nonostante sia il campione sia proprio un comprimare il fatto che abbiano di nuovo fatto vedere il momento in cui lui perde la cintura perché è troppo grossa per lui avrei evitato francamente capisco la situazione però avrei avrei personalmente evitato perché a livello visivo non mi è sembrato una grandissima grandissima immagine vediamo come se ne esce dal diciamo dal dal match dal triple fret quanto meno quello che vedremo tra una settimana perché alla fine alla fine di domenica prossima a takeover vediamo come come se ne esce sempre nell'idea di Gargano che vince con l'aiuto di anche io la penso così mi sembra un po' uno spreco una cosa di questo tipo contando nel senso tutta questa faccenda se poi alla fine torni da Gargano con l'aiuto di Austin Tyr mi sembra un po' uno spreco però vediamo come a meno che non fai vincere di nuovo non fai vincere Leon Ruff e lo consolidi si alla fine alla fine è comunque abbastanza uno spreco a meno che non ci sia diciamo un come posso dire a meno che non ci sia proprio un un regno lungo di Leon Ruff e non diciamo non non mi sembra che sia quello diciamo il il caso alla fine non mi sembra che ci sia che ci sia quella quell'intenzione quantomeno da parte da parte di NXT non so se non so se avete anche voi questa impressione non ho diciamo non so se se anche voi avete questa impressione ma non mi sembra francamente che abbiano questa no non mi sembra questa intenzione vediamo vediamo un po' vediamo un po' cosa vediamo un po' diciamo cosa cosa hanno in mente altre cose da NXT di questa settimana ah ecco cosa abbiamo dimenticato ancora per Takeover perché alla fine ecco la cosa positiva è che è tutto collegato Takeover alla fine perché comunque tutte le cose che hanno fatto questa settimana a parte forse Cuscida sono tutte collegate però Cuscida potrebbe essere lo sfidante di cosa di Balor Balor però ha detto andate pure in guerra e poi ci vediamo dopo cioè lui secondo me non difende il titolo Takeover non difende il titolo Takeover il promo il promo che lui il promo che lui ha fatto ha detto diciamo quando il gatto non c'è i topi Balor adesso il gatto è tornato andate pure in guerra e poi chi rimane in piedi se la vedrà con me più o meno nel senso del mini promo che ha fatto allora ti puoi fare benissimo puoi anche fare la disputedera vince il match vince il wargames Cole ha un'altra shot per Balor McAfee fa perdere Cole e vanno avanti puoi benissimo farlo anche in quella è un'ipotesi è un'ipotesi è un modo per andare avanti perché ripeto secondo me la disputedera non perde wargames di base ti direi neanche io però ripeto vorrei vedere anche perché poi anche perché poi vincendo il wargames loro possono andare contro Roddy e Fish possono andare possono andare contro Burch e Lorcan per i titoli di coppia sì Burch e Lorcan sì e poi vediamo per quanto riguarda per quanto riguarda l'altro ti posso dire un'altra cosa per Leon Raff Gargano e così via vince Leon Raff sì e poi fai girare il titolo a Pittan il contro Babyface ok è un modo praticamente per fai vincere Leon Raff e tutto il resto la settimana dopo arrivano i Kings Pittan beh McAfee va a perdere col Pittan attacca Raff Pittan vince il titolo nordamericano è un'ipotesi è un'ipotesi anche quella non è neanche non è poi neanche un'ipotesi così brutta pensandoci vediamo 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 che sarebbe sarebbe una roba dove poi rigiri di nuovo tutta la scena titolata praticamente intorno all'annis più ti d'era però è la roba che ha più senso perché comunque avrebbe senso che i Kings avessero più titoli più titoli piuttosto che non averli se lui ha detto Balor ha detto nel diciamo nel promo preparatevi per la guerra combattete questa guerra chiunque vinca la guerra non mettete le pedine da dama sulla mia scacchiera il gatto è tornato e dovete smettere di giocare nella mia lettiera non sono difficile da trovare il campione lavora il mercoledì questo è quello che questo fai vincere Cole poi i Kings lo fanno perdere di nuovo o magari o magari anche perché se vincono i Kings ci deve andare McAfee contro Balor e ce lo vedi con tutto il bene che ha fatto McAfee però McAfee contro Balor non so dipende dipende si dipende che ottieni lo schienamento però si di base il leader è la stable che comunque effettivamente dovrebbe avere la può fare un match in puntata che poi non è un match alla fine scusami non ho capito può fare solo un match in puntata che non è un match è un segmento praticamente le Kings che gli preparano al terreno puoi usarla puoi usarlo diciamo come posso dire puoi usarlo come modo di come posso dire per costruire per fare un rating alla fine il titolo di NXT praticamente in puntata lo fai come main event e punti quantomeno a fare un rating diciamo a puntare ma non vi preoccupate però guarda che come rating tira molto di più Balor contro Cole che Balor quello sicuramente quello sicuramente vabbè lo fai due settimane di fila e poi aggiungo una cosa se Landis più tidera fa perdere Mekafi per quanto Mekafi sia uno stronzo e tutto il resto rischiano di girare loro per gli quindi secondo me a livello di logica è meglio se Landis più tidera vince Cole ha una shot contro Balor che comunque sappiamo che Balor e Landis più tidera si rispettano ormai e lì arriva Mekafi che ancora gli mette i bastoni tra le ruote con Cole che dice c'eravamo liberati di te mi sono liberato di te una volta nella Gab mi sono liberato di te da solo adesso dobbiamo trovare una fine e magari allora lì puoi fare in puntata per tirare sui Raking fai Mekafi contro Cole e allora lì fai vincere Mekafi vediamo è una buona idea magari inizia a puntata dell'anno una roba del genere è una buona idea Mekafi prima o poi vincerà contro Cole però secondo me ha più senso che Mekafi vinca in un match uno contro uno piuttosto che nel War Games perché il War Games in questo momento se loro battono l'Undispeutidera praticamente tutto quello che hanno fatto e detto in questi mesi dell'Undispeutidera loro hanno ragione e l'Undispeutidera deve un attimo ribaltare questa prospettiva rispetto a i Kings capisci che intendo? si si no capisco capisco quello che dici diciamo che hai due cose da soppesare quantomeno sulla bilancia da un lato hai una stebola appena formata che perdesse già il primo match comunque probabilmente o possibilmente avrebbe un danno dall'altro l'Undispeutidera è il discorso che è appena fatto che comunque è assolutamente assolutamente corretto però devi capire chi dei due ne riuscirebbe più danneggiato quello si quello si esatto e secondo me in questo momento con tutto quello che hai raccontato in questi mesi ne esce più danneggiato l'Undispeutidera se la fai perdere sai una cosa è anche vero che l'Undispeutidera è in giro da quanto alla fin fine quanto danno può effettivamente subire l'Undispeutidera quantomeno a NXT perché rimango dell'idea che l'Undispeutidera non è che abbia proprio tantissime cose da fare in quelle di NXT ma non ha già fatto praticamente tutto avrebbe forse più senso portarli su però probabilmente in questo momento non hanno niente da fare di fare se li porti su o perlomeno non hanno se li porti su in questo momento o finiscono come la retribution nel giro di due settimane anche meno sì ma non perché non perché non credano in loro a livello di a livello di faida dovessi dire proprio perché magari è il periodo cioè a livello di tempistica non sarebbe il periodo giusto probabilmente ma non solo secondo me proprio anche a livello concettuale vedi questi Vince vede questi qua magari gli fa fare due settimane e poi non fanno un cazzo dipende dipende anche dove finiscono nel senso in quale show finiscono alla fine perché se finiscono bisogna vedere bisogna vedere in quale roster anche se li mandi a SmackDown c'hanno Roman comunque in questo periodo sì sì sicuramente sicuramente non lo metto in dubbio però mi metti per esempio è comunque uno degli errori più grandi che hanno fatto ti faccio un esempio no aspetta un attimo ti faccio un esempio però ok non lo lanci per il titolo del mondo mettilo però a SmackDown in una divisione dove ci sono lui Daniel Bryan Sammy Zane e Kevin Owens a giocarsi il titolo intercontinentale non è una brutta opzione però la risposta che ti dico io è che il titolo intercontinentale non conta un cazzo assolutamente perfetto quindi praticamente non li uso bisogna vedere ok io mi immagino una situazione in cui questi quattro si prendono aspetta mi immagino una situazione in cui questi quattro si prendono la briga praticamente di rendere il titolo intercontinentale finalmente qualcosa di importante poi chiaro devono sempre lottare con la percezione che ha la compagnia di questo titolo e lì potrebbe essere una battaglia o una scalata impossibile però non mi dispiace contando che in questo momento non si può andare per il titolo assoluto almeno finché c'è Roman Reigns non mi dispiacerebbe l'idea di Adam Cole che arriva e che si prende praticamente il titolo intercontinentale sul corpone aggiungo però un'altra cosa avversari ce ne sono con cui fare buoni match per dire uno degli errori più grandi che hanno fatto loro con l'Undisputed Era a NXT e questo secondo me è sotto gli occhi di tutto tutti è che per arrivare alla profezia dell'Undisputed Gold loro ci hanno messo due anni loro hanno puntato tutto subito sull'Undisputed Era con i team con i tag team è vero hanno dato Adam Cole il primo campione nordamericano però è comunque il titolo secondario con una stable il cui obiettivo è rivoluzionare il sistema distruggere il sistema dare una scossa al sistema il fatto che questo team non vada subito per il titolo maggiore è un errore e lì raffreddi che tra l'altro è lo stesso discorso è tra virgolette un discorso molto simile che puoi fare con i retribution questi che comunque combattono cioè vogliono parlano di volere il potere e non sono mai andati a cercare il campione del mondo a parte una volta è un errore perché se tu ti prefissi di fare un takeover ostile della compagnia o del brand come comunque era l'idea originale dell'Undisputed Era cioè se tu non fai subito un takeover ostile praticamente il tuo act muore in 30 secondi o comunque diventa una roba più che diciamo più che prendere il controllo della compagnia alla fine io credo che l'obiettivo della retribution sia distruggere la compagnia quindi può anche starci può anche starci che allora alla fine del titolo del mondo almeno per il momento non gliene freghi niente intanto cominciano a distruggere la compagnia delle fondamenta e poi arrivi al titolo però aspetta però se vuoi se vuoi dare un messaggio distruggendo la compagnia vai subito a puntare i piani alti cioè è come se tu mi dicessi che l'NWO arriva l'NWO Oga Nash e All formano l'NWO e iniziano a prendersela con i midcard sono d'accordo però ti dico il problema secondo me non è tanto che questi qua non sono mai andati a cercare il campione del mondo in almeno un'occasione il vero problema mi sembra che questi qua non solo non sono andati a cercare il campione ma sono andati anche a cercare praticamente i midcard e i piani bassi della compagnia e le han prese il vero problema credo che sia più quello il resto poi viene di conseguenza mettiamola così anche quello è un problema però ripeto se devi fare un takeover o stile di una compagnia o comunque vuoi distruggere un qualcosa tu devi vai a attaccare il top perché devi dare un messaggio se tu parti dal basso sì non vuol dire un cazzo cioè non sei una minaccia sì sì capisci che intendo no no hai ragione hai assolutamente ragione vediamo vediamo cosa fanno vediamo cosa fanno non ci resta che aspettare takeover abbiamo cos'è quattro match annunciati per takeover perché parlando di fight è che purtroppo devono andare avanti quella tra Dexter Loomis e Cameron Grimes avrà l'ennesimo capitolo in quelli io mi sono abbastanza convinto che adesso gli facciano fare tutti i gimmick match esistenti in natura non usciremo mai da questa faccenda siamo arrivati allo strap match a questo punto abbiamo avuto il blindfold match secondo me finisce con lo strap match c'è qualche altro c'è qualche altro gimmick match che possono fare che non hanno che non hanno ancora fatto che possono che possono praticamente come posso dire che possono che possono che possono nei quali possono essere protagonisti meglio ecco che scusa no ma secondo me finisce qua alla fine è una battuta però è una battuta però Loomis sconfigge Grimione siamo a posto il sogno è Grimione che finalmente riesce a sconfiggere sto stronzo ecco esatto sì esattamente il sogno è quello però non penso che succederà anche perché abbiamo avuto il blindfold match che non ha avuto un finale abbiamo avuto il cos'era lo zombie match che cosa diavolo era che non mi ricordo neanche più a takeover e anche e anche sì è quello diciamo non mi ricordo se c'era se era finito il match o no è finito è finito sul ring che sono arrivati gli zombie è ok però non c'è stata una decisione alla fine sì 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 c'è stato il conteggio ah c'è stato il conteggio non lo ricordo minimamente ma c'era stato un pestaggio che poi era finito di nuovo con lui che scappava non mi ricordo quando quello dove lui scappava era era il blindfold no ma c'era un'altra situazione c'era un'altra situazione dove era ah vabbè quella dove lui picchia l'arte no sai cos'era sai cos'era sai cos'era lui fa il match arriva l'arbitro zombie si spaventa e scappa eh bravo esatto c'era quello però no ma ce n'era anche un'altra c'era te la vado te la vado a prendere aspetta un secondo perché non mi sembra di mi sembra di ricordare diciamo un'altra un'altra diciamo una situazione quello con gli zombie è finito ho abbastanza sicuro che sia finito quello con gli zombie aspetta eh che vado a riprenderlo cos'era takeover 30 era giusto era takeover no era da Halloween AVOC quello con gli zombie ah Halloween AVOC giusto hai ragione era Halloween AVOC giusto giusto eh Halloween AVOC eccoli qua eh li vado a riprendere perché onestamente onestamente non non ricordo i i risultati cioè non ricordo se se quel match ha avuto un finale o se eh cioè un finale vero o se tipo lo ha lo ha diciamo lo ha addormentato con la presa con la presa di sottomissione e poi e poi mi spio che ha avuto il finale con l'arbitro perché c'è perché poi c'era l'arbitro zombie lui si ricordava dell'arbitro zombie no ok però diciamo il come eh no vedi lo ha cioè lo ha messo no gli ha fatto l'ha presa sotto missione però non c'è stato una decisione ufficiale gli hanno fatto risuonare la musica e poi è finito lì il match alla fine in quel in quel in quel particolare particolare segmento quindi vediamo se stavolta almeno stavolta c'è un finale ufficiale di questo di questo match in teoria sì perché è uno strap match quindi in teoria dovrebbe dovrebbe abbastanza abbastanza esserci eh no altre cose Cusci ha battuto Thatcher giusto Cusci ha battuto ha battuto Thatcher è un po' un peccato che Thatcher abbia abbia questo diciamo trattamento da parte della però l'hanno allora l'ha spiegato bene però è anche vero che almeno l'hanno protetto nel senso che comunque col fatto che gli ha fatto la Kimura nel braccio che si era infortunato prima alla fine l'hai protetto abbastanza rispetto a cioè è molto peggio quando Thatcher cedette non mi ricordo a chi cazzo aveva ceduto a Lumis mi sembra sì forse quando ha ceduto a Lumis è stato molto peggio sì 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 quello sì perché a Lumis non c'era nessuna spiegazione non aveva niente semplicemente è arrivato lì e lui si è addormentato con la sottomissione aveva ceduto aveva ceduto aveva ceduto mi sembra aveva perso l'ho sottomissione almeno l'hai protetto e poi ripeto secondo me c'è qualcosa stanno tenendo fortissimo Cuscida in questo momento quello sì evidentemente sì bisogna non capisco molto cosa vogliono fare praticamente con con Thatcher nel senso vogliono spingerlo e se sì come o lo tengono lì però poi alla fine quando arriva i match quando arriva i match importanti perde questo mi spiacerebbe un po' a meno che gli fa battere Ciampa non lo so vediamo ecco battere Ciampa effettivamente potrebbe essere un discreto trampolino effettivamente per lui vediamo vediamo che succederà settimana prossima hanno annunciato solo il match per il controllo per il controllo all'interno dei wargames giusto? quello femminile con sì Raquel Gonzalez e l'altra era Schozzi se non sbaglio forse Schozzi Schozzi Blackheart già direttamente ma grazie a Schozzi aspetta che vado a riprendere e ti dico di più contando tutto il bordello che c'è guarda che in questo caso sì Raquel Gonzalez contro Schozzi giusto in questo caso contando che ufficialmente il team di Schozzi non è stato annunciato sì e tutto il resto l'idea che tutte e quattro quelle del team di Kenny arrivano Schozzi è totalmente in difficoltà arrivano tutte le altre a darle una mano e lei riesce a vincere il vantaggio potrebbe esserci sarebbe una rivoluzione perché i babyface non hanno mai il vantaggio sì più che altro devi poi diciamo devi poi bucare il diciamo il bucare il wargames al contrario esatto al contrario e vediamo come come lo sanno gestire l'unico modo in cui puoi farlo puoi bucarlo al contrario è tu fai entrare fai entrare allora la prima che entra delle babyface fai entrare anche il gonzalez per prima delle heal sì fai entrare tutte le leggere e c'è Raquel che fa che va avanti che le distrugge tutte poi fai entrare in Ria è l'unico modo ok beh chi hai di leggere all'interno di quel team hai i Shozzi i Shozzi hai io che non pesa un cazzo eh lo so però hai tutta gente che mena hai Amber Moon eh sì però vabbè entra anche sulla stazza sì io comunque ho perso da Ria sì sì ok 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 però anche c'è anche in due anche in nel momento in cui ti trovi due contro uno con con Raquel Gonzalez comunque un minimo diciamo di un minimo di di botte sì beh è una situazione esatto è una situazione spinosa perché comunque non è un match facile da bucare con i face che hanno il vantaggio quantomeno con gli heal ovviamente è molto è molto più semplice quindi quindi vediamo cosa vediamo cosa si inventano praticamente con con questo risultato e basta non c'è un certo altro il main event che non abbiamo parato bene del match bello bello gran bel match gran bel match il ladder il ladder match cosa bella che mi è piaciuta tantissimo è che hanno usato tantissimo le scale sì e le hanno usate in maniera figa sì perché hanno fatto hanno usato tantissimo le scale si sono ammazzati sulle scale l'unico l'unico neo del match almeno per come l'ho visto io che secondo me sono andati un po' troppo lunghi e la fase finale ha corso come dei pazzi per cui hanno venduto praticamente nulla sì però quello sai quello però se guardi ladder match alla fine non è poi così anormale sì però il fatto che Kyle si prenda la bitter end sulle transenne sì e torni subito poi lo lanci oltre la barricata sì e poi in 30 secondi lui è già lì che fa cadere pit done mi è sembrato un po' troppo quello sì quello è vero quello è vero purtroppo ripeto negli ultimi anni quantomeno nei ladder match situazioni di questo tipo li hai viste sfortunatamente quindi non è poi così non è poi così anormale diciamo come 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 situazione non so se siano andati effettivamente tanto lunghi perché la puntata è finita tipo due minuti dopo le 10 in America quindi c'è stato un minimo di overrun o l'overrun non era previsto e allora sì hanno dovuto per forza correre e due minuti se li sono presi o era comunque previsto e hanno finito tutto sommato normali perché di solito quando c'è un overrun in XT si piglia dai 5 minuti in su 5 minuti 5-7 minuti l'idea che ho avuto è quella perché hanno corso veramente come dei pazzi nella fase finale parlando di overrun sono curioso se questa settimana per esempio Dynamite sfrutterà l'overrun perché c'è un match grossino c'è un match abbastanza grosso e diciamo che specialmente se inizierà diciamo come posso dire oltre una certa ora mettiamo così cioè se inizia tipo dopo le 9 e mezza praticamente ora ora americana e hanno intenzione di farlo andare parecchio lungo ci starebbe diciamo anche un minimo di overrun però vediamo magari TNT è contrario a questa cosa ne parliamo poi tra pochissimo quando sarà praticamente il momento di parlare di di parlare di Dynamite anzi credo che possiamo direttamente parlare ora di parlare di Dynamite eccoci qua allora con la parte diciamo dedicata all'AW per quanto riguarda la guerra del mercoledì mercoledì sera non sappiamo com'è andata ripeto a livello di ascolti per quanto riguarda questa settimana non sarei stupito di vedere un calo quantomeno per quanto riguarda per quanto riguarda Dynamite non so è Next Team ma per Dynamite forse un pochettino di più non so neanche come sia la situazione in America a livello di locali quanto meno perché era giorno prima della festa del ringraziamento l'anno scorso hanno effettivamente sofferto a livello di ascolti nel giorno prima della festa del ringraziamento perché la gente usciva quest'anno con la pandemia magari purtroppo la gente non può uscire di casa però fortunatamente per gli show di wrestling tutti e due sia NXT che i W la gente magari è rimasta un pochettino in casa quindi magari ha visto un pochettino più lo show per quanto riguarda settimana prossima l'aspettativa per quanto riguarda il risultato dal punto di vista dal punto di vista degli ascolti credo Gianluca se tu hai visto la puntata che sia quanto meno alta perché comunque il match è interessantino se vogliamo dal punto di vista dal punto di vista del pubblico è forse il match più grosso che hanno fatto viene anche spacciato come tale credo giustamente durante lo show è il match più grosso probabilmente che Dynamite può proporre in questo momento non so se è il match in assoluto più grande che abbia fatto l'AiW fino a questo momento se non lo è comunque siamo molto vicini per quanto riguarda il livello anche dei due personaggi secondo te chi vince il match? vince subito Omega o ci inventiamo qualcosa per tirarla avanti no facciamo cavolate è tutto lineare tranquillo vince Omega andiamo avanti ok chi ha attaccato Moxie secondo te? puoi anche non dirlo tanto ci pensa un'altra compagnia poterlo sfruttare appunto non lo dici perché da come diciamo l'hanno l'hanno anche portata avanti questa settimana Moxie è andato a cercare Kingston e Kingston gli ha fatto capire che lui non c'entrava niente perché gli ha detto tu mi conosci avessi dovuto fare una roba di gente l'avrei fatta in faccia non te l'avrei fatta alle spalle e il fatto che lui gli ha detto io non so chi tu abbia pagato quando poi ha attaccato Mox Omega durante il segmento della firma gli ha detto io non so chi tu abbia pagato per diciamo per fare quello che hai fatto ma non ti servirà sostanzialmente in vista del nostro match cioè io continuo a pensare che stia suggerendo Kenta non so come mai non so perché ho questa ho questa sensazione però non lo so o perlomeno aspetta o perlomeno stanno portando avanti la storyline di modo che tu possa pensare che sia Kenta però in realtà loro hanno un'altra idea sarà un altro personaggio che poi magari non lo so fanno doppia costruzione la Nungiapen quanto gli servirà di la colpa di Kenta quando poi Kenta dirà col cacchio io ti attaccato ecco solo qui l'AW avrà pensato che a dargli contro Moxley vediamo però mi sembra uno dell'AW hai la fortuna che c'è un match in Giappone il Nungiapen si venderà per un po' Kenta poi però Kenta dirà no io non ti ho mai attaccato ti ho spaccato il culo qui fine perché tanto Kenta non mi frega niente solo Vichel quindi vediamo sì te la gestisci per la storia che stanno raccontando non è Omega in teoria nel senso è qualcuno che ha soldato la Kenta scusami la Ken Omega è qualcuno che ha soldato la Ken Omega in teoria a livello di a livello di storia per quello che stanno raccontando vediamo chi è vediamo chi è e come e come entra in gioco perché a sto punto presumo che questa persona si faccia vedere mercoledì probabilmente cioè durante durante il ci sarebbe un free agent a giro però non so quanto valga chi c'è di free agent in giro in questo momento perché Dampeggio ha finito con l'impact no non ancora non ancora scade a fine anno scade a fine anno a fine anno sì cioè gli unici gli unici free agent gli unici free agent che che sono in scadenza di contratto ma a combinazione scadono il giorno cioè che poi non sono in scadenza ma sono stati gli scade dalla clausa praticamente dei 90 giorni quella la no compete classica che la WWE rilascia da chi è licenziato gli unici che hanno una scadenza in arrivo ma che scade il giorno dopo la puntata di Dynamite di questa settimana sono gli AOP però non so se saranno loro praticamente ad andare ad andare proprio in AEW anche perché comunque è vero che c'è cioè è vero che i tech team diciamo sono trattati bene in quegli AEW però e ne hanno troppi no ne hanno troppi non è che ne hanno tanti cioè a questo punto a questo punto cominciano cominciano a essere veramente troppi ha molto più senso per loro andare a impact parzialmente cioè andare a impact con diciamo con una divisione che è messa non malissimo ma che comunque avrà bisogno comunque di un team da ricostruire se i fanpage effettivamente lascerà la compagnia come sembra tra l'altro e tra l'altro contando il fatto che hanno appena perso i Rascals lì secondo me loro possono fare effettivamente molto molto bene è una rivalità che alla fine credo che gli AWP e Gallo Zennos si siano affrontati in WWE corregimi se sbaglio che loro abbiano avuto una realtà quindi si andrebbero a ritrovare eventualmente però per impact può andare effettivamente bene chiaro non puoi chiamare gli otto sopain si chiameranno probabilmente in un altro nome però alla fine quelli sono i lottatori i lettori della morte non credo qualcuno gli hanno passato scusami erano autori chiedo scusa adesso diventano lettori direttamente si perché ora si stancano di scrivere adesso le regole hanno il blocco il blocco dello scrittore adesso leggiamo leggiamo solamente peraltro impact posso dirlo tutto il fenomeno all'opponent per i tampage perlomeno posso dire è la solita cosa fatta però almeno l'hanno giustificata i storylines nel senso di prendere per il culo i tampage si è la classica cosa che una compagnia fa quando uno sta per andare via cioè quando uno sta per andare via jobby in questo caso tra virgolette ti umiliamo anche in questo caso che poi vabbè non è neanche un'umiliazione perché comunque i tampage per esempio era era token shop amenia quindi alla fin fine credo che ci sia anche un discorso per sminuirlo per google hai finito perdi con un nano sostanzialmente il discorso è quello è una roba è partito il twitter tra l'altro tra l'altro tra l'altro non so come siano loro piazzati a livello a livello a livello legale perché il marchio P1 è di proprietà di AJ Styles quindi non so se loro abbiano potuto utilizzarlo vero che sono amici gallo si la fine è loro vero che gallo anderson sono amici quindi comunque probabilmente probabilmente se ne sbatteranno che cazzo dove si ma ci stava anche a livello di storia poi alla fine credo che rientri nel solito discorso delle parodie le parodie puoi farle quindi le parodie sono protette diciamo dal punto di vista legale C.J. Woggle C.J. Woggle l'hanno chiamato non mi ricordo come è si si poi ha fatto un bocce il ringannouser perché poi quando ha vinto ha detto AJ Woggle si 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 vabbè tanto parlando un attimo di altre compagnie poi torniamo a Bomba Dynamite e a parlare di AEW no volevo visto che volevo chiederti visto che tu e io e te abbiamo parlato di questo personaggio qui in questa sede nei mesi passati volevo chiederti cosa pensavi del fatto che hanno rivelato il diciamo il non mi ricordo mai come si chiama il il question mark esatto il question mark della N.I.W.A. che però non è Josephus perché Josephus non è più sotto contratto quindi hanno dovuto hanno preso un altro hanno preso un altro l'hanno messo sotto la maschera e gli hanno fatto rivelare subito il personaggio per togliere di mezzo la chimica praticamente perché Josephus non è che era quello sotto la sotto la maschera era diventato era diventato questo è un mark in storyline perché aveva perso tipo un loser Lifetown in N.I.W.A. prima ancora che la N.I.W.A. arrivasse su o comunque all'inizio all'inizio il vecchio campione all'inizio proprio di N.I.W.A. Power su YouTube quindi l'hanno riciclato così con questa gimmick che tra l'altro è proprio molto old school è molto divertente però poi alla fine lui non ha rinnovato con la N.I.W.A. adesso vediamo se va da qualche altra parte la gimmick pesa che non c'è lo show perché comunque ha perso tutto il tempo la N.I.W.A. tra l'altro ha annunciato che ripartirà questa settimana con un programma che si chiama Shockwave che va in onda alle 6 mi sembra ora americana quindi a mezzanotte italiana tra martedì e mercoledì e hanno detto che ci saranno match inediti più robe che abbiamo registrato con la N.I.W.A. cioè non è Power un'altra cosa perché comunque in questo momento Power non possono farlo evidentemente l'unica cosa se vogliamo per quanto riguarda la N.I.W.A. è che bene o male comunque ogni 2-3 settimane leggi qualcuno che se ne va quindi il fatto di non poter non a caso infatti c'è gente che sta apparendo in altri show tipo l'A.I.W. comunque una partnership con l'N.I.W.A. con l'N.I.W.A. è evidente che ce l'ha perché comunque il titolo femminile l'N.I.W.A. non sarebbe difeso in A.I.W. nei paper non ci sarebbero stati degli acquisti non ci sarebbe Thunder Rosa che Thunder Rosa vabbè non è un proprio acquisto cioè appare è pagata per apparizione però diciamo che comunque certa gente in A.I.W. non l'avresti vista in questo periodo peccato per l'idea quanto meno però è anche vero che io dall'inizio personalmente ho sostenuto che un modello come quello dell'N.I.W.A. dal punto di vista economico non poteva funzionare senza un contratto televisivo perché comunque da YouTube non vedi tanti soldi con le visualizzazioni che fanno loro quanto meno con le visualizzazioni che fanno loro ma secondo me se la sarebbero trovato un contratto di merda ma se lo sarebbero trovato io non sono convinto io non sono convinto che se lo sarebbero trovato Impact ha dovuto comprarsi un canale addirittura per trovare un contratto televisivo quindi non sono non sono convinto ma ti avete fatti un contratto bruttissimo però è inutile è inutile che ti prendi un contratto se poi la gente non ti paga capisci un contratto il progetto di Corgan era fare così farlo su internet e lo so però dal punto di vista economico non può funzionare perché comunque non paga YouTube non paga e te sei sparito esatto il problema purtroppo è quello comunque ci sono tante compagnie che sono su internet però sono anche compagnie che evidentemente hanno anche costi minori un progetto come quello dell'NWA che non è diciamo a grandissimo costo nel grande schema delle cose però comunque un po' di costi ce li ha necessariamente diciamo che comunque se devi andare doveva andare in televisione un minimo quantomeno di diritti televisivi doveva comunque incassarvi in assenza di questo era difficile vai era uno show che si stava costruendo non stai dicendo che è un brutto show non stai dicendo che è un brutto show appena è partito è buona è sparito tutto lì lo show lo show in sé non è assolutamente brutto anzi è uno show dannatamente oscull questo nel bene e nel male però diciamo il guaio non è tanto lo show in sé è il modello economico cioè il modello andiamo su youtube e viviamo di quello viviamo con gli high pay per view che facciamo su fight è un modello che non può funzionare dovevano evolversi però ti ripeto hanno avuto non è neanche questione di trovare il contratto televisivo in america in questo momento o hai veramente qualcuno di grossissimo dietro come per esempio l'AiW che è comunque i can che comunque ti aprono le porte e comunque qualcosa ti fanno probabilmente anche ottenere e va detto ci va anche fortuna ci va anche fortuna perché comunque nel caso dell'AiW la loro fortuna è stata fare quello show la prima settimana di gennaio nel 2020 andare molto bene dal punto di vista di ascolti perché NXT stupidamente con il senno di poi andò in onda con una puntata di recap fare uno show talmente buono che TNT guarda i dati di ascolto si convince venite che firmiamo venite che rinnoviamo per 4 anni e vi diamo 175 milioni di dollari in 4 anni se no non fosse andata così la pandemia avrebbe causato grossi problemi all'AiW sicuramente cioè la loro fortuna è stata fare quello show e a trovarsi il posto giusto da convincere TNT ad andare avanti in modo netto cioè comunque a impegnarsi in modo netto dietro questo tipo di prodotto questo tipo di compagnia non fosse andata così probabilmente la storia sarebbe molto diversa adesso a fine novembre 2020 vediamo vediamo l'AiW purtroppo non si è trovata in una situazione di questo tipo perché comunque non è riuscito a ottenere un contratto televisivo cioè l'impact in questo momento va avanti anche perché comunque loro sono comprati di fatto perché loro sono comprati access per trasmettere la compagnia l'impact è a posto per i prossimi anni non so quanti soldi vedano perché devono devono basarsi sui contratti esteri principalmente che fanno perché comunque possiedono il canale però dall'altro lato è anche vero che comunque avere un canale di tua proprietà ti dà tranquillità cioè comunque il tuo prodotto in televisione ci sarà non dico sempre però comunque ci sarà per un bel po' di anni cioè tu sai comunque che il tuo prodotto visto che tu possiedi il canale dove va in onda sarà sempre in onda altre compagnie non sono così fortunate devono non gli è costato poco intendiamoci andare su access però però diciamo che da quel punto di vista è una buona situazione in cui essere poi a livello di introiti possiamo parlare probabilmente una vita degli introiti della TNA di impact in parole povere chiudendo vabbè così cioè NWA ha avuto sfortuna non ha avuto modo di far anche di espandersi nel suo modello magari sbagliato dall'inizio ma ha avuto anche la sfiga poi io ora vediamo dove va parlando di NWA torniamo a Dynamite torniamo a bomba io vorrei io non boh io cioè con Cody boh cioè bene cioè il senso a me il team test il fatto che ok tanto questo titolo non gliene frega niente a nessuno trasformiamo in una storyline che ha senso c'è Tedz che vuole che questo titolo e lo hai costruito venga riconosciuto di fatto dalla compagnia e Cody che fa il prezzolato di cane che dice guarda ti diamo quello che vuoi match no bastardo tuo figlio sarà con me mi ha ricordato la scena di Crozza con Di Guerre quando faceva tuo figlio si droga no vabbè in realtà è stata in realtà in realtà il segmento in sé comunque non è stata una cosa casuale quella del figlio perché comunque gli ha tirato un colpo basso perché comunque Tedz ha detto il titolo FTW pretendo che il titolo FTW abbia rispetto pretendo che Tintaz abbia rispetto abbiamo Cage abbiamo Ricky Starks abbiamo comunque tutti questi personaggi Powerhouse Hobbs esatto Powerhouse Hobbs che comunque ha fatto anche un buon debutto è vero ha avuto uno squash però comunque ha fatto un buon debutto tutto sommato chi sa contro chi poi arriva Cody nelle veste di dirigente della compagnia e i due batti beccano e poi gli dice ma scusa ma se il team Tedz è tanto figo perché tuo figlio si sta allenando con me cioè è un colpo basso alla fin fine è un colpo molto basso tant'è che è un colpo talmente basso che Tedz per la prima volta applica la transmission a qualcuno dopo qualche anno però diciamo la situazione che comunque hanno creato con questo promo non è brutta alla fin fine nel senso che no no ma ti ripeto il promo è venuto bene e hanno comunque riciclato un titolo che non si caga a nessuno in una storyline che ha senso perché comunque il titolo non è riconosciuto di fatto il titolo non è riconosciuto perché la compagnia non lo riconosce lo citano quando Brian Cage entra però di fatto non è un titolo ufficiale vediamo se adesso diventa effettivamente un titolo ufficiale o magari si arriva a una dipesa del titolo FTW diciamo ufficiale il tipo Brian Cage difende dall'assalto di non dico di Cody però comunque di una persona praticamente che adesso oppure diventa un altro titolo secondario della compagnia diventa un po' no ti prego basta va bene così tanto era un titolo che con tutto rispetto per quanto a me Brian Cage piace non si stava proprio cagando era cagato il fatto che è Tez che te lo propone quindi ci sta farci la storyline quello è stato geniale tanto è un titolo che non conta per noi se non per la storyline facciamo la storyline che Tez continua e insista a volere i suoi momenti sì però diciamo questo attacco no no aspetta no aspetta quello che sto dicendo è però questo attacco comunque a qualcosa deve portare ovviamente questo attacco di Tez ti lascia i wargames e ti direi qua c'avevi quello che volevi fare quest'anno ce l'avresti diciamo il team Cody contro il team Tez non lo so non lo so se vogliamo arrivare a una situazione di questo tipo ci starebbe però anche perché poi più che altro il team c'è i powerhouse obs Brian Cage Ricky Starks e chi? nei tre ne hai figlio figlio già figlio che non ha neanche avuto un mezzo ottato poi alla fine sono in tre Tez e tre non è che e Cody dai Darby Allie nel suo caso nel suo caso lui è veramente un debuttante l'hai anche visto il figlio ragazzino non vorrei dire credo che sia anche minorenne il figlio di tre non lo so onestamente a me mi sembrava giovanotto poi non ti chiedo l'età ma ricorda le T-Resse si allenano anche sotto una certa età però va bene però ti ripeto quando ha fatto l'accettazione del figlio mi ha ricordato non lo so mi ha venuto Mente Crozza Coddingero e tuo figlio si droga cioè all'improvviso la notizia per farlo diciamo di base allora credo credo che sia maggiore neber il semplice fatto che comunque diciamo era l'iscio e portava il titolo no non è tanto quello è il fatto che comunque lui abbia presentato un trademark per il nome da lottatore che sarà Hawk visto che no Hawk che cazzo dico Hook non Hawk Hook Hook questo ha i capelli rossi si chiama Hook Red Hook proprio perfetto contando da da dove arriva come zona come zona di come zona di New York Tez Hook bello Tez Hook no Red Hook perché lui è from the Red Hook section of Brooklyn cioè è una cosa è una cosa che magari è casuale ma non lo è fino a un certo punto perché c'è quella coincidenza lì diciamo del quartiere da dove da dove vediamo comunque una cosa in cui la EW sicuramente è diversa rispetto rispetto alla WWE e attenzione non sto dicendo che sia necessariamente un bene un bene o male perché comunque può funzionare in alcuni ambiti può non funzionare in altri e comunque vedi che comunque alcuni personaggi o buona parte anche dei personaggi di questa compagnia non hanno una faida e vanno solo su quella ne hanno una due addirittura anche tre a volte vedi Cody Cody per esempio ha questa cosa con Shaquille O'Neal però nel frattempo c'è comunque questa situazione col Team Taz prima di fare qualsiasi cosa con Shaq ci tocca tipa di Shaq contro tipa di Cody è normale perché tanto Cody ha altro da fare ci sta che prima fa il match delle donne però vedi anche Brandy comunque tu odi Brandy Rhodes è un odio motivato è un odio motivato e non avrà l'obiezione da me non è odiare è stimare le sue capacità impeditoriali e dire che come resta fa schifo e non c'è bisogno di guardare un match ma ti do pienamente ragione è un odio assolutamente motivato quello che volevo dire è questo però vedi anche nel caso di Brandy ha questa situazione con come si chiama lei non mi ricordo come si chiama la tizia di Shaq la tizia di Shaq adesso non mi ricordo non mi ricordo come si chiama e questa settimana c'è stato questo promo di Vicky Guerrero con Naila Rosa che se l'è presa un po' con lei quindi probabilmente come tappa intermedia prima di arrivare a tappa con Naila Rosa esatto hai comunque una situazione che non è fissa come per esempio dove c'è dove i misterio praticamente affrontano da mesi solo Seth Rollins o Buddy Murphy o elementi comunque legati a quella storyline ma succede anche per altre faide quantomeno qua e ripeto non è necessariamente un bene o un male ci sono situazioni dove può non essere un bene fino a questo momento mi sembra una gestione abbastanza equilibrata diciamo della situazione i protagonisti quantomeno delle storyline non hanno una faida fissa ma hanno comunque anche situazioni vedi per esempio quello che è successo nel benevento Eddie Kingston con praticamente Butcher and the Blade se la vedono con Puck Puck anzi Phoenix e Pentagon e Pentazero Miedo e poi alla fine arriva Lance Archer a menare praticamente Butcher Blade e a rivolgersi a Eddie Kingston perché ce l'ha ancora su con lui dai trascorsi della Battle Royale anche perché comunque Lance Archer a parte qualche apparizione ad arc è stato praticamente fermo io tra l'altro ho una mezza idea ho una mezza idea ho una mezza idea ho una mezza idea che non è purtroppo neanche purtroppo positiva e cioè che credo che l'abbiano tenuto fuori Archer per la questione di Jake cioè io sono abbastanza convinto purtroppo aggiungo che che le apparizioni di Jake per l'AW stiano stiano comunque per diventare sempre meno nel senso beh se lo giri se lo giri non ti dico face però non hai capito cosa intendo perché purtroppo Jay sta male il problema è quello cioè lui ha rivelato lui l'avevamo detto lui in intervista ha detto di avere dei problemi cronici ai polmoni e ha detto io devo prendermi l'ossigeno perché se sto senza ossigeno e parlo 20-30 secondi gna faccio poi ho bisogno comunque di mettermi nella mascherina quindi io credo che purtroppo e ha detto purtroppo è una situazione cronica non è una situazione data dal fumo anche se comunque non l'ho aiutata perché ho fumato quindi lui si è visto Dynamite al fianco di Archer però non ha fatto niente quindi io credo che apparizioni fisiche live di Jake the Snake al fianco di Archer purtroppo aggiungo perché secondo me lui aggiunge l'act di Archer non ne vedremo tante io ho questa impressione attento aggiungi ad act di Archer il perché comunque Archer è attivo con la persona che gli parla però scusami anche da babyface alla fin fine io non credo che l'assage sia poi tanto diverso da face e non da il cioè io anche se anche se non per dire ma anche se fosse un face alla fin fine lui quando entra il povero zozzone che viene preso e menato lo andrà a far sempre secondo me ma sì ma lo fa con il tranquillamente lo so ma a livello visivo non cambia assolutamente niente secondo me Archer è uno che face o ill l'act è sempre lo stesso cioè non cambia non cambia assolutamente nulla nel suo caso però prima da cattivo aveva bisogno usavano Jake come colui che voleva far capire il mondo di Jake tutto quello da buono buono nel senso Archer che picchia cattivi non c'è granché bisogno di portare Jake ma non è lui che picchia i cattivi cioè non è non è quello il discorso non è assolutamente prima no prima prenderai Job e li uccideva ma anche adesso lo fa ma il punto è che anche adesso lo farà secondo me cioè non cambia assolutamente nulla ma continuerà a farlo anche a Dynamite cioè è il suo act cioè lui al momento di entrare si presenta con uno praticamente abbrancato tipo borsetta sale sul ring lo mazza e poi va a fare il match perché il suo act perché il suo act alla fin fine ma perché ci va perché lui esatto esattamente cioè comunque lui funziona da spacca curi e lo fa in questo modo anche se la face i poveri malcapitati li troverà sempre alla fine ma sì ma lo puoi tenere il malcapitato non è che lo rende cattivo buono però no infatti ora che va contro un super parlatore rompipalle che c'ha da parlarne ogni 20 secondi come Eddie Kingston Letty Arcel onestamente considerando anche i problemi di Jake Jake può anche stare giustamente fermo a riposo Arcel non ha bisogno adesso da diciamo spacca culi buone virgolette di lui vai e picchia Kingston sì vai Mena esatto non ha bisogno di parlare cioè oddio secondo me infatti ti tieni ti tieni ti tieni Jake per apparizioni in promo cioè fai il promo registrato una o due volte però il senso sì sì ma infatti la mia obiezione era questa nel senso Jake secondo me live lo vedremo sempre meno più che altro perché comunque no ma non avrebbe neanche senso o perlomeno lo metti lì però non fa un cazzo perché comunque purtroppo ha questo problema fisico sperando che ovviamente questo problema vada poi a risolversi però da come ne parla purtroppo è un problema c'è il video dell'intervista che lui ha fatto non ricordo con chi dove ha il tubo dell'ossigeno sul naso quindi non è una bella situazione oggettivamente per lui però ti ripeto avendogli dato adesso questo cambio del personaggio penso sia stato anche ragionando su guardate guarda che non è non è neanche così netto alla fine il cambio del personaggio è solo indirizzarlo verso un cattivo tutto l'altro sì esatto che poi alla fine è una cosa che nei W fanno alla fine ma sì ma li fanno come hai detto prima sono bravi a rimodulare a rimettere tutte le carte in mano quello sì non c'è bisogno neanche di farli fare super turn face ti ripeto in questo modo Jake lo tieni fuori non è neanche un turn la fin cioè oddio sì è un diciamo che tra lui e Kingston ovviamente Kingston è lì il di turno quindi gli va contro Archer Archer e Babyface ma sfrutti le peculiarità dei due perché per dire se Archer se poi rivelassero per esempio che Archer è quello che ha attaccato Ken Omega no Ken Omega scusate che ha attaccato Mox ovviamente sarebbe Lill ovviamente perché comunque Mox è Babyface quindi diciamo che no ma l'avevano già provato a Dark lui faceva dei promo che non erano da cattivo erano dei promo dove diceva io non mi dimentico le cose sono uno che comunque ha un suo onore picchio tutti ma finché lo vengo rispettato nel senso ti ripeto so di problemi di Jake l'ho visto purtroppo l'ho visto anche mercoledì cioè è giusto che la spiglia di riposo Archer anche se fai il buono ma io ti dito virgolette buono comunque tanto in quella fai da lì non c'ha bisogno di parlare c'hai quello lì che parla per chiunque l'hai visto nel match con Pac cioè non c'è bisogno che Pac faccia il promo da sfinto buono tanto c'è lui al commento in due minuti te lo fa star sulle palle non si vede neanche che Archer cambi tanto il personaggio fai da Kingston tutto il tempo e Archer dice tre cose alla stroma ti ammazzo fine non c'ha bisogno di nient'altro e poi va over per quello e più metti Bocerende Blade in buona posizione comunque erano meno eventi anche questa settimana e va detto oggettivamente lo meritano perché comunque specialmente Bucer è migliorato tantissimo a livello di a livello Bucer era bravo Bucer era più che altro più che altro è migliorato perché comunque partiva da niente esatto partiva da niente adesso comunque ha ha comunque una una sua apprisione era quello senza personalità il fidanzato è diventato un personaggio beh anche anche a impatto di fatto di personalità non ne aveva se andiamo a vedere quando era quando era non c'era niente Blackstone Sutter però qui è andata meglio sì sì decisamente sì teoricamente teoricamente anche chiudo avresti anche finti buoni triangolo però ti dico loro li poi neanche potresti anche rimetterli come prima se vanno benissimo anche lì basta basta che li mandi contro un heel contro un babyface automaticamente ma loro secondo me l'idea loro è quelli lì vanno bene come sono non c'è bisogno di farli diventare dei buoni Hunter da buono funziona ti ripeto in una faida dove non ha bisogno di Jake perché tanto parla quello lì e tu sentendo parlare Kingston tu vuoi Eden Sutter che arriva e ammazza 30 persone e lo tifi ma perché è quello su Act deve uccidere gente e va over per quello deve ammazzare gente Jobber soprattutto di Kingston è comunque una faida che ti avevo detto Kingston la fortuna rispetto ai grandi monster che hai mandato contro Moxley che hai subito trovato qualcosa da fargli fare in tre settimane ha fatto comunque più di tutti gli altri Kingston è una bella storia di questo 2020 una storia a livello umano intendo a livello di storyline è fantastico risolve tutti i buchi della trama nel senso dal punto di vista umano la sua è una storia bellissima perché comunque lui praticamente con la pandemia ha dovuto vendere praticamente la ring gear ha dovuto praticamente stava per stava per vendere addirittura la casa dove lui è in questo momento tornare dai genitori nel New Jersey ha fatto è riuscito a convincere praticamente l'AW a fare a fare il match con Cody a Raw questo match per il titolo TNT che è diventato una sorta di tryout è andato talmente bene che la settimana dopo gli hanno telefonato mentre lui era in macchina mentre era in macchina si è dovuto fermare con la fidanzata gli hanno detto guarda ti prendiamo e lui ha raccontato mi sono messo a piangere c'era la mia fidanzata che praticamente mi diceva sfogati perché comunque diciamo è giusto che comunque ti sfoghi perché comunque è un bello sfogo e è diventato uno degli uomini non dico di punta però comunque uno degli uomini principali di Dynamite in questo momento sicuramente uno dei più divertenti diciamo del periodo di questo periodo strano a livello mondiale il suo guaio se vogliamo che l'abbiamo detto anche in questa sede qualche settimana fa che purtroppo per lui si è trovato nel posto giusto ma al momento sbagliato perché comunque purtroppo non poteva andare il titolo per quello che ha fatto per il modo in cui si è proposto per il modo in cui comunque ha tenuto sulla storyline con Moxley che è arrivato in modo casuale perché comunque il match full gear doveva essere con Lance Archer poi Lance Archer ha avuto purtroppo il covid hanno dovuto cambiare i piani e sono andati con il match con Eddie Kingston la faida è stata una grandissima costruzione a livello di prova è andato bene e ripeto rispetto a tutti gli che sono andati con Moxley però Moxley non poteva perdere perché perderà con Kenny Omega quindi giustamente non potevi fargli perdere il titolo no ma va bene quello lo sapevamo no purtroppo la questione era quella cioè comunque non poteva perdere il titolo e quindi Kingston che l'avrebbe anche meritato per il culo che si è fatto e comunque per la qualità del lavoro che ha fatto sia in ring che fuori purtroppo l'ha preso in quel posto però se non altro adesso lui è comunque una parte importante della compagnia lui rispetto ti ripeto rispetto a tutti gli avversari di Moxley che quando hanno perso sono spariti per mesi lui tre settimane di fila ha fatto tre particolari storyline cioè è riuscito in tre volte a entrare dentro ora ha una sua faida ma prima c'aveva la roba di Pac poi ha avuto la roba della sfida fratricida tra penta cioè lui rispetto a tutti gli altri di quelli battuti da mostri che era il mio problema cioè li batteva e poi per un mese sparivano lui subito la settimana dopo avevano già qualcosa da fargli fare e ha funzionato in tutti i segmenti ora lì dai una faida dove lanci Archer da face e funzionerà perché comunque hai lui ripeto ti farà venire la voglia di chiamare Archer sull'inchi gli spazza via e anche qui comunque hai due faida per voi perché comunque hai Kingston contro Archer e poi hai sempre la questione con Pac la vendetta del primo Kingston contro Pac volendo come match a fare quindi hai due match potenzialmente anche Fenix perché Fenix al momento l'ha definito come dire il ragazzino che vuol fare il gioco il salterino Pentagon il mio fratello poi Pentagon che vorrà vendetta su di lui più che altro perché cioè non vendetta però comunque alla fine si è schierato al fianco nel fratello quindi quindi vorrà vorrà affrontare ne hai tante di storie per lui questo questo sì tornando all'ordine praticamente di Dynamite di questa di questa settimana abbiamo ecco perfetto abbiamo questa questione con Adam Page praticamente con Haman Page che sembra essere intenzionato ad entrare o comunque che è quantomeno corteggiato in questo momento dal Dark Order ti dico anche che secondo me ci entra anche all'interno del Dark Order almeno per poco almeno per poco ma secondo me ci entra almeno finché non ritorna però di lì che lo caccia probabilmente dovessi dire ti direi magari all'inizio è compiaciuto però avresti anche la scappatoria sì non è una cosa lunga la mia idea praticamente è questa cioè lui tocca talmente il fondo che pur entra nel Dark Order cioè che lui entra nel Dark Order e poi arrivato lì dopo un po' si rende conto cerca di uscirne praticamente alla fine il Dark Order è un po' come Silent Order ci sentiamo se andiamo a vedere come idea quantomeno ovviamente molto più grossolana perché comunque è comunque un programma di resting però è comunque questo culto questo culto alla fin fine il Dark Order quindi ci sta anche raccontare eventualmente la storia di quello che cerca di uscirne per avere diciamo una rivalza a livello personale e poi eventualmente cominciare la risalita perché comunque sarà quella poi la storyline di Page se andiamo a vedere Page in questo momento deve toccare è vicino a toccarlo ma non ha ancora toccato proprio il fondo il fondo il fondo deve toccare il fondo e poi da lì deve ricostruirsi perché poi penso che sarà quello che toglierà titolo Omega avresti anche avresti anche modo per fargli risalire la china vai quando il Dark Order dirà Page picchi a cabana che è un pezzo di merda fai tu il sacrificio arriverà al punto di dire no io sono stato abbandonato per queste scelte quindi lo puoi fare è una cosa che comunque accadrà tra un bel po' di tempo ci vorrà però arriveremo a Brodili che dirà Page vuoi entrare in Dark Order deve entrare prima ritornare Brodili e poi deve esserci il momento in cui praticamente Brodili lo manda via ci sarà il momento in cui cabana perde un mescio importante e Brodili dice vai picchialo e lui capisce che cabana è lui si rivede in cabana e dice ma io ero questo prima quindi si rivolterà contro Dark Order perché si dira basta io non voglio più vedere i col cabana non voglio finire così che mi escludono mi picchiano e rimango da solo esatto e poi così fa uscire cabana da Dark Order e dai poi spazio a quello che penso sarà la faida del futuro futuro Brodili che dirà John Silver basta hai creato tutti questi danni Page l'hai portato tu cabana sei tu che lo continui a tenere quest'altro fai tutto tu questo arriverà nel momento in cui decideranno di girare John Silver Face perché comunque guarda metà del prossimo arriverà arriverà questo momento perché è dannatamente over è diventato incredibilmente over deve arrivare il momento che cabana scappa Page scappa e Brodili chi prende di mira quello che ha chiamato lui anche se l'ha fatto il voluno ma chi l'ha affrontato sempre lui poi abbiamo letto Powerhouse Ops ovvero il Foo Will Ops nuovo membro praticamente del del Team Teds ricorda un po' effettivamente guardandolo a livello a livello visivo con il fatto che gli hanno dato il single e ti hanno dato tutto ricorda un po' il primo Ettore il primo il primo Biggestone no non dirlo non dirlo non so se abbiamo se abbiamo in collegamento non credo che abbiamo in collegamento non credo che abbiamo in collegamento personale non guardo le IW quindi no ah ok grazie poi di Ettore ce n'è uno e tutti gli altri sono nessuno tutti gli altri ne hanno 31 certo questo sicuramente non ce l'ha quello che c'ha Ettore va bene no l'H lui è Ettore con l'H non è Ettore non è Ettore con l'H perché è Ops giustamente quindi c'ha l'H giusto è Ettore con l'H va bene grazie mille ringraziamo per il collegamento con per il collegamento con Mario Fantasy Warfare Ricordatevelo Powerhouse contro Big E sì poi abbiamo detto no Hybrid 2 Hybrid 2 contro Top Flight anche qui buon vittore degli Hybrid 2 perché comunque Top Flight in questo momento è giusto che perdano perché comunque sono appena arrivati bisogna prima è giusto che Angelico e Jack Evans siano a vincere a Dynamite che erano scaduto ok ok però la vedo con tutto rispetto per Angelico e Jack Evans la vedo più come una questione relativa ai Top Flight cioè credo che sia più una cosa propedeutica a una vittoria di Top Flight che arriverà poi più avanti non adesso però tra qualche quando faranno il mondiale dei Tech Team quando faranno il grande torneo a 30 Tech Team i Top Flight faranno come la World Tag League della World Tag League World Cup fanno World Tag Cup fanno proprio il mondiale poi direi vedi che Top Flight hanno vinto contro Team Forte Team Forte faranno come il FH con la private party daranno una grande vittoria che li butta su questo è un po' meno bene se vogliamo rispetto al match della settimana scorsa però era anche un match con gli Unbox quindi comunque ci sta anche più piatto assolutamente non intendo dire niente di negativo il discorso è semplicemente quello i Top Flight sono un team tra virgolette nuovo alla fine che sarà tra qualche anno che sono in circolazione sono dei ragazzini esatto perché parliamo comunque di uno 19 l'altro 21 anni quindi bisogna bisogna avere un pochettino di pazienza nei loro nei loro confronti il potenziale il potenziale secondo me c'è e non è neanche tutto sommato basso però dobbiamo dobbiamo ovviamente guarda che funziona tutto quando arriverà il momento del mondiale quando faranno le selezioni del girone ah no ci sarà nessun mondiale smettila quando faranno il girone con il Top Flight dirai bene contro tre team veterani gli fanno il culo e gli battono tutti e tre li è costruiti come fecero proprio le patti il senso è che gli servirà la grande vittoria nel momento giusto poi parlando parlando di faide Jericho e Eger contro gli SEU che tra l'altro è una delle primissime volte che comunque si affrontano questi qua tant'è che settimana prossima a Diamond avremo Casera e Jericho mai fatto cosa che non credevo che si fossero affrontati almeno una volta invece non si sono ancora affrontati come posso dire finale con la vittoria con la vittoria volevo arrivare direttamente direttamente a quello settimana prossima abbiamo la abbiamo diciamo la Battle Royale visto che c'è stata lo scorso e ci sono tanti membri di Jericho del suo gruppo chi vincerà la Battle Royale secondo te perché ci starebbe effettivamente ci starebbe che MJF ci starebbe una sconfitta di MJF cioè MJF che perde praticamente l'anello in questo match magari io ci avrei il nome magari per un sottoposto tu magari pensi Sammy Guevara io pensavo Warlow forse addirittura no io stavo per dire Warlow ah ok che va sì per il lanciarlo però ci starebbe che comunque lo rivince lui ma lo ha vinto Warlow non lui se no c'è l'opzione migliore Sammy Guevara Archer arriva spazza via tutti e vince lui ma Archer è nella Battle Royale non mi sembra no non credo nella grafica non ce n'erano tanti c'erano molti ce n'erano molti della tempo di Jericho posso dire che la cosa più bella diciamo di questa nuova versione dell'Inner Circle è in tutti i promo vedere Archer vedere scusami Eger che si guardano in Cagnesco costantemente in tutti i promo anche quelli dove anzi soprattutto quelli dove non c'entrano assolutamente nulla ecco e guarda perché tu guardi perché tu guardi Jericho e gli altri che fanno che fanno in promo e tu guardi dietro ci sono sti due che si guardano come se stessero per menarsi per 20 minuti guarda quando quando la mia predizione prossima anno il mondiale dei tech team e fanno Eger Wardlow come tag rido per un anno quando fanno l'estrazione con Tony Cane fanno Eger e Wardlow dell'inner circle e loro due qua Mattia scusa ti interrompo un attimo non so se ci stai ascoltando Mattia in questo momento anche se credo che abbia la cuffia alla cuffia di Sincerino volevo chiedere dove è praticamente il peso di Tyson che stanno facendo in questo momento poi parliamo un attimo del match di Tyson che comunque merita merita quantomeno la nostra ma no volevo parlare del tipo di match però diciamo come si dice però avevo bisogno di Tyson la capriscola vince vai tranquillo no no ma ne parliamo quando ritorna Mattia un attimo della questione comunque caccavolata del mondiale no aspetta aspetta vedo che ha trovato Mattia e ha inserito le cuffie no per la questione di Tyson visto che ho letto che stavi vedendo il peso di Tyson come mai sei interessato al peso di questo match ma così ho aperto youtube e non avevo niente da fare hai visto il peso di Tyson col vetro in mezzo perché ti ha messo tristezza il fatto che ci sia il vetro in mezzo ma no non mi ha messo tristezza mi ha messo tristezza loro due ah ok no ecco visto che non so se tu guarderai il match di Tyson non penso ecco no non so se tu sai le regole del match no non le so allora è un'esibizione da mi sembra da otto ho letto un noto come il dottore di MMA italiane che ha seppellito il match beh non ha francamente torto nel senso che comunque è un'esibizione è un otto round da due minuti l'uno non si possono fare i KO cioè è vietato il KO e di conseguenza sono vietati i colpi forti sostanzialmente cioè di base a livello di match è un incontro di sparring cioè uno sparring tra due che non possono farsi male alla fine però ne ha parlato credo ne ha parlato dicendo ma si lo stanno proponendo come si questi non possono colpirsi ma si si colpiranno tranquilli che si colpiranno che è un modo molto suddolo effettivamente di proporre un match poi hanno detto non ci saranno i giudici ufficialmente l'incontro alla fine finirà in parità però intanto hanno portato i loro giudici quindi è tutto tremendamente bizzarro in questo in questo in questo in questo tu sai che contro Logan Paul stile più o meno facciamone un altro tu lo sai che c'è Logan Paul nel comment di questo evento ma infatti credo che fosse quello con la parrucca di Super da Super è possibile è un youtuber facciamo che non commentiamo Logan Paul per l'umanità però diciamo però il vantaggio di Logan Paul tra virgolette a livello di a livello di tu sai quanti pay per view ha venduto il suo match che aveva venduto su youtube mi sembra 5-10 dollari se non ricordo la cifra tantissimo aveva venduto un milione di pay per view una roba una roba la gente non vuole vedere non è che ci possiamo fare il tasto anche perché vabbè lì lo misero contro KSI che è un altro youtuber quindi no no KSI ancora non l'ha affrontato doveva affrontarlo ma è arrivata la pandemia per fortuna non l'ha affrontato qual era il primo che aveva affrontato il primo che aveva fatto il match su youtube i primi sono stati il fratello Logan ma fu un match di merda quello il primo match è Logan Paul il primo match che fecero fu su youtube Jake vedrai quello che lotta stasera il fratello quello stupido no 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 lotta Logan mi sembra domani stavo guardando vado un attimo vado un attimo a vedere non lo so perché lo aveva smesso quell'altro invece da stupido vuole continuare vabbè adesso guarda vado a vedere un attimo la vado a vedere un attimo la K magari sbaglio io Jake Paul si hai ragione tu è Jake Paul tra l'altro sai chi affronta tu sai chi affronta nel come in event di questo di questo evento no io mi rifiuto di guardare i match di una persona del genere cioè io ho partito preso e non guardo aspetta che ti dico aspetta che ti dico chi affronta perché è un nome che è un nome che non vi giunge nuovo ti dice niente il nome Nate Robinson se Nate fagli il culo vincitore Superman si vincitore della gara delle schiacciate anzi Kryptonite si Kryptonite no Kryptonite il suo nome era Kryptonite lui era Kryptonite perché perché aveva perché aveva battuto no perché aveva battuto perché aveva battuto Dwight Howard esatto nella gara delle schiacciate aveva tratto anche la gara di inizio perché Dwight Howard l'anno prima aveva fatto la scenetta con il bantellino di Superman e lui che era tipo un nano ha fatto tipo ha saltato lui e tra l'altro nella finale proprio contro credo Dwight Howard non ricordo con chi era in finale si presentò con la canotta verde proprio con il colore della Kryptonite comunque vabbè hai detto in breve onestamente sai cosa io non vorrei comprarlo sto pay per view su Skype però forse alla fine è Taiso la fine Taiso mi piace io non lo comprerei perché comunque costa 10 euro posso anche permettermi è un discorso che faceva dei mostri sai cosa sono ste regole qua che mi lasciano che vedrò una puttana a prescindere so che vedrò una puttanata però almeno se fosse un incontro vero è una puttanata ma un incontro vero alla fine o comunque c'è un incontro dove comunque si menano sostanzialmente se devo vedere un incontro di sparring allora no me lo guardo piuttosto su questo è un discorso in breve che hanno fatto esperti di box e Mike Taiso ha più di 50 anni con questo siamo pienamente d'accordo vai sì sì ma quello non lo mettono più però è un discorso poi lo chiudiamo in breve che hanno fatto tanti esperti di box io non mi ci metto dentro perché sono uno che ha visto che per curiosità dopo ha recuperato Logan Paul che sai che era un match di merda con regole fatte male solo per fare il pareggio alla fine esatto era una storyline per fare un secondo match che da zone l'ha super pubblicizzata della super media event poi ci avevano messo match di box e che avevano pagato un ciuro in America a livello di diritti madonna a livello di diritti a livello di diritti da zona aveva pagato tantissimo per prendere i diritti per non andare in onda questo match e va detto che comunque un buon numero di abbonati con questa boiata l'avevano fatto sì ma è quello nel senso lo spiegava un boxer giovane che è Ryan Garcia che è un boxer bravo giovane però ha detto ragazzi al mondo diciamo per attrarre i giovani o comunque la gente che non diciamo non dello sport fare le storyline anche in queste robe qui funziona perché anche lì ma un boxista lo vuol vedere ne è Robinson che picca il fratello lo stupido di Logan Paul ma se guardi se vedi un milione lo devi fare ma anche nell'ambito diciamo nell'ambito di sport da combattimento in generale perché comunque funziona così anzi ma anche Tyson ma di la maniera di tutto ma funziona così anche in UFC cioè comunque quali sono gli incontri che storicamente sono andati di più a livello di Venetan nella storia della UFC quindi comunque dove hanno creato una rivalità dove comunque controversi esatto neanche controversia neanche controversia proprio il per dire tra i match più visti abbiamo i conti di Lesnar Lesnar da fin fine se vai a vedere grandi controversie non ne ha create nella sua vita però tutti i suoi incontri erano specialmente quello con Frank Mir che è comunque uno di quelli che è andato meglio era basato sulla diciamo su una storia perché comunque si rispettavano i due nella vita nella vita reale però comunque hanno comunque creato questa rivalità basata sul primo match che Lesnar stava chiaramente vincendo e che poi ha perso a suo dire perché l'arbitro si è messo in mezzo e gli ha rotto le balle non vedendo diciamo dei colpi illegali da parte di Frank Mir e basato su quello su questa rivalità hanno comunque creato creato comunque l'aspettazione però attento le differenze sono che le differenze sono che lì è un match dove tu puoi fare una storyline qui si sta parlando nel caso di Tyson ma Logan Paul che sai tutte queste robe qua che te la prepari prima e sai già che con le regole del match che fai ci sarà perché come ha detto bene anche a me sto match otto round da due minuti puzza di lo facciamo per fare un po' di show perché non è un match perché se fosse un match di box la differenza la differenza io credo che in questo caso ci sia un discorso un pochettino anche diverso del tipo vi facciamo fare sta roba per beneficenza perché comunque per beneficenza questa cosa vabbè beneficenza portano comunque acquisti perché comunque Tyson sicuramente però ti dico facciamo fare questa cosa solo se le regole sono queste perché comunque probabilmente Tyson e anche Roy Jones Jr l'ok probabilmente non l'avrebbe ottenuto poi a livello di risultato tutto il resto questo risultato cioè questo incontro se va oltre l'ottava ripresa un vincitore non può averlo per le regole ufficiali perché comunque è un'esibizione poi se la vedrà allora fin fine questa cosa qui c'è anche da dire una cosa c'è anche da dire una cosa dopo che la dopo ti ricordi quando la la bella mise Kimbo Slice sul ring sul ring e gli fece fare un match vero contro quell'altro alla fine Kimbo Slice lì è un caso lì è un caso diverso secondo me non si fidano non c'entra non c'entra nulla non c'entra assolutamente nulla perché comunque in quel caso comunque Kimbo Slice veniva da incontri veri comunque cioè comunque veniva da incontri reali quello che è successo lì praticamente è è una situazione un po' diversa quella della bellator dove purtroppo Kimbo Slice morì cioè lì è diciamo due che hanno dovessi dire hanno esagerarono con il con il prima praticamente nel senso esagerarono con il taglio del peso probabilmente poi ci sono sentiti male durante il match hanno sottostimato cioè hanno creduto cioè non era Kimbo Slice non era non era tecnicamente un un amateur cioè lo era però a livello di match professionistici aveva comunque dei match professionistici alle spalle in UFC prima di venire tagliato e di andare poi a fare quel match lì quel match lì in bella il problema era per l'altro cioè era per dalla 5000 che era la credo il nome era l'altro sì effettivamente che è quello che ho sentito male ma che purtroppo non è mancato detta così è terribile però però diciamo diciamo che dei due quello più allenato tra virgolette a livello professionale era Kimbo Slice e purtroppo è Kimbo Slice che è il concetto alla fine va a riprendere anche quella storia lì chiudendola in breve sì qui non si giudica il comparto sportivo di lotta perché UFC lo fa e poi ci fai la storyline perché sono personaggi la UFC la UFC alla fine fa wrestling possiamo vedere le rivalità della UFC quando hanno i grandi personaggi sono wrestling tranne 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 vabbè tranne il caso di Conor McGregor e di Cabin Urmagomedov che lì è andata leggermente oltre se vogliamo no ma lì ti ripeto o meglio o meglio o meglio lì è successa una cosa molto semplice Conor stava esagerando anche a livelli proprio a livelli anche esagerati per vendere un pay per view Cabin l'ha presa sul personale lo ha asfaltato di mazzate poi al pay per view ma ti dico per chiudere in breve quelli si fanno i personaggi dello storyline ma nel match non ci sono le modifiche il match è vero per cui il match è vero lo puoi anche io ti ripeto la sfida degli youtuber ha insegnato alla box agli sport e di combattimento che non serve la storyline pre-match la puoi fare anche nel match nel senso però sai perché lo sai che tanto Tyson in un match di box fa schifo e non puoi farlo ho capito però il discorso qui è diverso secondo me quello è un match quello era un match vero che ti hanno spacciato per come posso dire che che hanno workato a livello di giudizio per arrivare praticamente a quella situazione qui è un match che non ti fanno fare se non fai un'esibizione e che tu stai spacciando per vero cioè a livello è l'esatto contrario è l'esatto contrario rispetto al match di Logan Paul se andiamo a vedere è totalmente il contrario c'avevi due youtuber è un match che dobbiamo farlo per forza così perché se no non ce lo fanno fare perché Tyson è anni che non combatte Jones è anni che non combatte e se non fanno esibizione l'ok per lottare non glielo danno e loro ti stanno e loro ti stanno dicendo comprate tutte le si vena per davvero cioè è un'altra cosa è una cosa completamente diversa sì vabbè ma è un tentativo diverso poi è l'esatto opposto è l'esatto opposto qui c'è due fucker c'è due youtuber questi però qua tenere che sono fermi però no fermi esatto sono fermi cambia le regole perché sono fermi non sono degli youtuber che li insegnano perché se no non glielo facevano neanche fare perché se no le commissioni non glielo facevano neanche fare questo tipo di match beh le commissioni i match di youtuber ti dicono va fa culo tanto sono due amate cioè due usordienti però li sai Tyson no però li sai però li comunque sono giovani quindi comunque i controlli medici probabilmente li passano il discorso in questo caso li trattano come Tyson e Tyson e Jones che probabilmente gli fai un controllo non so a quanto tu passano probabilmente anche Tyson cioè qui proprio che questi due gli devi fare la storyline del match perché questi se li metti in condizioni normali c'hai i controlli loro stessi e l'età e l'inattività il punto è quello il punto è quello va beh è completamente contrario rispetto a per esempio il match di Logan Paul che è un paragone giusto ma è l'esatto opposto alla fin fine comunque vediamo cosa esce speriamo che non succeda niente speriamo che non succeda niente per quello ti dico sono titubante a comprare il match perché ho po' cioè so che vedrò una minchiata però comunque la cioè so nella mia testa che sarà un incontro di sparring alla fin fine però per come te lo stanno vendendo comunque il dubbio te lo sta mettendo me lo sta mettendo in testa quindi boh non so non so cosa non so cosa fare praticamente alla fine magari magari potete usare questa frase e replicarla in Abaddon Shida ok lo so che me lo stanno vendendo come sta qui è un mostro dell'oscurità e Shida c'ha la paura fottuta sì però comunque è un wrestler cioè qualcosa sa fare Abaddon sì sì no allora io credo lanciata così allora io credo vabbè come ti vedono qualsiasi match del Finder ormai sì esatto però attento Finder è una maschera sai cosa lei come act lo fa molto bene nel senso che comunque è molto convincente lei diciamo nell'act da zombie praticamente io credo che sia una faida dove a livello concettuale praticamente è evidente che ci sia un evidente input da parte sia della Shida che di Kenny Omega che sta bucando la divisione la divisione femminile perché proprio hai la giapponese contro il demone è proprio la perfetta a livello di diciamo a livello di puramente concettuale c'è anche anche la Shida che è terrorizzata dal fatto di trovarsi per la prima volta faccia a faccia con un demone vero se vogliamo utilizzare questa definizione è una cosa molto da anime se vogliamo questa cosa qui però poi vediamo il match non è che mi lamento tanto non c'aveva avversarie almeno una nuova esatto lo devi impostare perché comunque l'AiW non è che ti sta vendendo questa come la creatura sovranaturale con la baschera però ti sta vendendo che questa non sanno neanche loro come trattarla esatto perché comunque è una cosa talmente 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 oltre cioè una cosa è un personaggio talmente puramente horror quello di Abaddon che alla fine non sai neanche come trattarlo a livello di proposizione vediamo come vediamo come gestiscono il match rispetto a quell'altro dell'altra compagnia qui secondo me si stanno gestendo subito bene non lo vogliono neanche promuovere ok lotta però non lo sanno neanche commentatori come parlare di questa cosa questo arriva con tre litri di sangue in bocca si arriva poi non sai come si pone sul ring lo stile di Lotta è molto molto ortodosso non è che te la vendono che non vende è che vende in modo strano cioè si prende il colpo però si rialza magari torcendo esatto tipo zombie tipo esorcista è una gimmick cioè è una gimmick horror però lei la porta avanti molto bene oggettivamente come personaggio e magari attenzione facendo facendo no ma attenzione ma poi facendo anche così magari con diciamo con la presenza scenica se dobbiamo utilizzare questa definizione lei magari riesce se ha qualche lacuna e non posso sapere perché non c'è dato un modo di scoprirlo se ha qualche lacuna dal punto di vista del Lottato la copre perché comunque ha ha l'acto si vede che cioè lo aiuta il fatto che non è che non vende che vende in modo particolare perché comunque non è che ha grandi mosse offensive sì sì appunto è quello che intendevo dire però ti cattura esatto cioè quelle lacune che ha le copre in questo modo le copre con il personaggio le copre con diciamo con le mosse con le mosse con i movimenti con le movenze con il fatto di rialzarsi in un certo modo quando quando deve quando deve praticamente fare il comeback è una cosa è un personaggio ben sviluppato diciamo nella sua come posso dire nella sua nella sua strammeria rispetto a un altro personaggio che ha più dubbi in come te lo presentano lei ti hanno detto quello che è cioè è buono non lo sanno neanche loro sì non lo sanno neanche come spiegarlo al commento poi nel match ti ripeto offensivamente veramente non sa fare una super mosso offensiva a parte 3-4 ma il problema è la sua difesa delle mosse cioè subisce una mosse tu non sai cosa fa può stare a terra come non vendere esatto ma adesso con la sciga dopo un minuto cioè non era anche in piedi se la godeva come dire adesso io so che potrò batterla un giorno vediamo però ha perso è una cosa è una cosa diversa è una cosa diversa e vediamo è un match per la sciga esatto un avversario per la sciga tanto credo che fosse credo che sia un match che sia stato semplicemente rimandato alla fine dall'infortunio che lei aveva avuto perché lei dovevano fanno e d'agosto e d'agosto che era numero 3 del ranking quindi comunque l'hanno solo rinviato però evidentemente è giunto il momento di farti fare questo match ti posso dire per essere a Nagea al decimo undicesimo match a margine cioè non è un fenomenale match però è uno di quegli cioè in una divisione femminile dove gli act non vanno granché over lei se continuano a lavorarci ci possono andare over con lei perché comunque non è malaccio e ripeto sarà il decimo match che fa NPUA è praticamente basta mettere accanto a John Silver e va over da sola c'è bisogno di granché o costo Grayson va bene uguale poi cos'altro cos'altro da aggiungere per quanto riguarda scusa le grandi faide di Milo move on the way oh i grandi piani finalmente bisogna 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 prima finire questa questione con i best friends perché non è finita evidentemente poi vediamo è stato tutto bello cioè loro che presentano l'Xbox il loro canale di gaming arriva a Cassidy gli spengono la console col ditino è stata alquanto bizzarra effettivamente come ma l'intera gestione di Miro è bizzarra credo che sia principalmente un problema di timing nel senso in questo momento non possono o non vogliono probabilmente spingerlo tanto in alto perché comunque non ci sono buchi dove infilarlo praticamente Miro e quindi passa un po' in secondo piano che è un peccato alla fine per uno come lui vediamo se nei prossimi tempi le cose migliori vediamo se nei prossimi tempi con tutto il rispetto per i suoi fan i lottatori gli amanti del wrestling è in quarto piano ma non è che lui è in quarto piano perché non è in grado fa schifo la storia è una questione è arrivato ma è arrivato parolossalmente forse al momento sbagliato è arrivato non è che ci avessero grandi idee in quel momento perché ci avevano 60 idee davanti questa idea a me non emoziona non mi sta ecco non voglio dire all'Ilaias però a me le cose fa il russo ok le ha fatte buon per te cioè in IW c'è 60 cose io di seguire Miro cosa fa generalmente non è che ci abbia questa voglia mi diverte però al fine a se stesso perché c'è Kip Sabian che è un bravissimo notatore bisogna anche vedere adesso con lui perché è evidente che lui andrà poi in New Japan perché comunque l'ha detto anche che comunque ha due piani praticamente il contratto glielo permette quindi bisogna vedere cosa hanno in mente per lui quando andrà in Giappone se sarà già adesso se sarà già più avanti nell'anno mi viene a pensare continuano a dire che Wrestle American e Wrestle Kingdom non ce ne saranno io ho qualche dubbio francamente però vediamo cosa succederà lo scopriremo ovviamente per tempo però sì in questo momento è un po' bloccato Miro in in AEW perché comunque che hai fatto sto prendendo una porta come le porte di Rusev abiti abiti in un castello Transilvano dimenticavo beh scusa Barone per cosa ero chiamato giusto 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 è in quarto piano in una compagnia che ha 60 cose ripeto quando è arrivato mamma mia Rusev vedrete come vi farà rimpiaggere WWE maledetta quando poi bisognava analizzare nel contesto arriva in una compagnia che c'è 70 persone e gli hanno detto cosa vuoi fare Ruru poi voglio andare in Giappone vabbè finché non vai vediamo cosa fare gli hanno messo con Sebian e c'hanno 60 cose cioè non è colpa di tutti bisogna vedere quando vogliono far finire questa cosa cioè questa cosa di Sebian ma domani potrebbe essere anche domani io pensavo ok debutta fan il matrimonio diciamo nella puntata anniversario di Dynamite che era tipo un mese dopo più o meno quello che è lui si rivoltava contro per qualche motivo e poi cominciava la faida e poi cominciavano il push però invece la tirano avanti ancora un bel po' questa questione vediamo cosa ne esce diciamo che capisco la critica cioè se uno mi dice eh fino a questo momento mi rende una delusione non ho niente in contrario capisco capisco ma non ti viene neanche la delusione c'è basta smettere di fare la prosopopea che se uno va a vedere la WWE si vendicherà maledetta la compagnia quello sai che succede con tutti con 60 wrestler non ce l'hanno il tempo per tutti ma è normale c'è The Wrestler che stavano fuori due mesi c'è Ruru e con Kiss Abian e con Best Friends o Orange Cassidy comunque per loro è un act medio alto più di questo in questo momento non c'è è Ruru Cassidy vediamo vediamo cosa vediamo cosa succederà Ruru Cassidy nei W è praticamente midcard anche perché giustamente diciamo in ottica titolo titolo AEW effettivamente la strada sembra abbastanza segnata nei prossimi per i prossimi regni però c'è titolo però c'è titolo TNT secondo me per lui va benissimo ma per Miro ci vorranno sei mesi otto adesso deve affrontare gli act ma nessuno dice domani ma nessuno dice domani tra qualche mese però sì tra qualche mese vediamo però è una cosa che i fan delle due compagnie devono cominciare a bisogna smettere di guardare il sensazionalismo è troppo facile come quando arriva il grande giocatore nello sport si ma ovvio bisogna guardare e Davio è piena di gente così purtroppo qualcuno deve per un Ricky Starks che va a 2000 e ci deve essere un Roosevelt che va a 50 qui perlomeno come abbiamo detto all'inizio e chiudiamo l'arco le idee ce l'hanno cioè affiosa ne fanno anche delle brutte però almeno le fanno non è che questa e non ci muoviamo più no attenzione non necessariamente sono tutti doppie e triple per citare per fare una metafora a livello di baseball attenzione no nel senso non sono tutti non sono tutti fuori campo non sono tutte doppie e triple alcune alcune magari sono anche dei giri di mazza vuoto attenzione ma qui la direzione è semplice Romero contro Cassidy e comunque nei W Cassidy ha fatto un anno che è stato ben costruito per Romero batterlo sarà il salto importante poi il matrimonio tutto quello che verrà però intanto mi sembra la strada più concreta Cassidy nei W è considerato un ottimo worker è un ottimo personaggio è un match di terzo livello ma da quarto a terzo ci metti poco e da terzo poi c'è TNT c'è matrimoni i segmenti dove ammazza TNT è più alto secondo me TNT è più alto di terzo livello sì ma prima ammazza la dibotta Kip Sabian nel secondo livello il TNT ma ci mette quattro mesi magari aggiungi il titolo TNT e buonanotte finché tirano avanti sta cosa di Penelope Cruz e Kip Sabian a lungo a livello di matrimonio ovviamente non c'è il pretesto per Miro per rivoltarsi contro tra fin fine a Kip Sabian quando ci sarà matrimonio allora cominceremo cominceremo probabilmente a vedere qualcosa a livello di matrimonio dai abbiamo detto tutto alla fine la prossima settimana come detto avremo il match per il titolo tra Kenny Omega e John Moxley in questo Winter is Coming che alla fine è una puntata speciale ma guardando la card a parte il titolo a parte il match per il titolo non è che ci sia poi tantissimo di una puntata di Dynamite a parte il match tra Moxley e Omega non è un paper view in chiaro secondo me è una puntata speciale ma diciamo che si basa interamente su quel match a livello di ranking a livello di ranking hai il match per le sensazioni hai il match per i vecchi perché comunque Casera e Gerico per un pubblico anziano è un match che tira e il match dei giovani perché c'hai comunque Team Taze con Cody e Darby Alling che sì c'è Cody però per i giovani Cody è il faro di questa compagnia e c'è tre persone che fino all'anno scorso non esistevano cioè alla fine c'è tutto hai il match per gli anziani per i giovani è il main event più carico che hai ci sta però tutto il resto è una puntata di Dynamite quello che intendevo dire è che viene gli hanno dato il titolo quello che quello che vuoi perché il network è lì non ci voleva tanto sì no non è quello non è quello che volevo dire ma poi ci stava col tema dai no 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 ok però quello che volevo dire era una puntata speciale però non è un paper più in chiaro secondo me a livello qualitativo quello volevo dire no ma la fatta anche delle puntate così comunque abbiamo abbiamo Max Omega in apertura del mondo di W Darby Alley le Codi Rozza contro Ricky Starks e Powerhouse Hobbs in un match di coppia abbiamo Labattoroyal con Hangman Page Sammy Guevara John Silver Matt Hardy chi cavolo sono questi qua i private party poi abbiamo Matt Seidel Scorpio Sky non viene il nome John Spears John Spears grazie Orange Cassidy abbiamo Miro e Kipsevian Miro e Kipsevian Miro e Kipsevian World e credo che sia Trent quello che c'è che è nella allora ci sarà Miro e Kipsevian Miro e Kipsevian ci sono manca Chuck Chuck Taylor però però diciamo che Miro e Kipsevian ci sono Chuck Taylor non c'è per motivi per motivi inspiegabili e scusa? beh non c'è neanche Cage no non c'è non c'è non c'è neanche Cage non c'è neanche Hobbs esatto perché Hobbs al match al match sono 2 4 6 8 10 12 14 15 in questa in questa Battle Royale con impaglio con impaglio 5 sorprese se è a posto poi abbiamo Gerico contro Kaserian e poi abbiamo Britt Becker contro contro la contro la Irsh che è appunto quella che quella che dicevamo sta lei la Irsh ecco non mi veniva non mi veniva il nome che è questa questa nuova lottatrice proprio nuova 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 perché comunque lei è molto giovane lei ha lei ha oddio è giovanissima non mi ricordo quanti quanti erano forse 22 se non ricordo il il diciamo il nome XCW background diciamo da diciamo da wrestler da prestito collegiale sta facendo molto molto bene a Dark nei pochi match che ha effettuato ha fatto anche un match a Dynamite non ricordo quale però ha fatto un match anche contro Icaro Shida contro Icaro Shida no Icaro Shida era Dark però il match era Dark il 27 ottobre contro Icaro Shida e fece un'ottima prestazione in quel in quel match e buona buona prova penso che perda però comunque la buona prova mi sembra che l'abbiano messa anche sotto contratto lei finalmente quindi almeno per il momento non va da nessuna parte diciamo ha avuto diciamo ha avuto diciamo è promettente è promettente vediamo cosa vediamo che succede praticamente nelle prossime diciamo nelle prossime nelle prossime settimane il potenziale ce l'ha vediamo se vediamo se lo conferma naturalmente il potenziale è fondamentalmente sotto contratto e questo è quanto credo e questo è quanto riguarda Dynamite di questa di questa settimana eccoci qua torniamo con l'ultima parte del diciamo diversi caffè di questa settimana Mattia Di Noia e Riganzerdi Gianluca Forse ci raggiungerà va meglio oggi o senti che siamo riusciti ad arrivare a quello che dicevo ieri il piano è a fare la prima parte stanno malissimo la seconda si sta da Dio diciamo esatto la seconda si sta bene si sta meglio diciamo da Dio magari sì da Dio forse no però sta meglio stai meglio rispetto effettivamente a ieri sera allora prima di parlare di Smackdown di questa di questa settimana un paio di cose perché sono cambiate un po' di cose nelle ultime ore ti ricordi il discorso che abbiamo fatto ieri sera per quanto riguarda il match di ieri sera è completamente inutile hanno cambiato le regole hanno cambiato le regole di nuovo praticamente adesso il capo si può fare ci sarà un vincitore quindi credo che il motivo sia da prendere sulla quantità inumana di scommesse che hanno preso per questo match quindi si vede che i promoter sono andati a dire guardate ci sono delle scommesse in ballo per questo match perché il bookmaker dà le quote non possiamo dire non ci può essere un vincitore probabilmente i bookmaker ci troviamo i bookmaker a casa probabilmente con con una mazza da baseball e potrebbe non essere felice comunque ci sono come detto nel momento in cui ci stiamo ascoltando i lunedì sapete già come è finito il match però noi stiamo registrando prima e c'è comunque il cambio di regole quindi alla fine mi sa che me lo prendo per curiosità alla fine perché alla fine non seguo tanto il pugilato però Tyson me lo ricordo quindi voglio vedere ma detta la cosa fisicamente sta benone Tyson è ancora una bestia dal punto di vista a 50 anni è uno di quei sai cosa è oggettivamente uno di quei personaggi che rimane che trascende il suo sport è un po' non ti dico il Jordan perché quello no però nell'era moderna sicuramente dell'era moderna è pugilato quantomeno per quanto possa essere moderna perché parliamo di fine anni 80 primi anni 90 però effettivamente nell'era più vicina alla nostra più vicina moderna del pugilato il pugile è più dominante sicuramente è stato lui poi è arrivato Floyd Mayweather che è dominante in un modo diverso forse se non vogliamo dire che lui visto che non possiamo dire che lui è il Jordan del pugilato perché per quello c'è Ali lui magari potrebbe essere il Rodman del pugilato anche a livello di personaggi è stato tra i pugili più in alto a livello di classifiche dei pugili praticamente mondiali magari non così in alto come si pensa perché più che altro ci sono stati altri personaggi ovviamente prima di lui nella lunghissima storia del pugilato beh però comunque lui è comunque un personaggio che se tu dici Mike Tyson se lo ricorda se lo ricorda esatto specialmente perché è anche abbastanza fresco tutto sommato nel bene e nel male perché comunque c'è il bene diciamo dei suoi devastanti KO nel male la sconfitta con Buster Douglas e poi quello che è successo con Evander Holyfield nel secondo match praticamente con lui comunque vabbè noi fan di wrestling ce l'abbiamo anche la sua presenza la sua presenza diede un bel aiuto alla WWE nel 98 a livello di diciamo di mainstream in quel periodo perché è vero che c'era Steve Austin però Mike Tyson in quella wrestling media lì aiuto veramente tanto beh c'è anche da dire a livello di consapevolezza mainstream Austin era Austin però comunque anche quel segmento lì con Tyson l'ha messo praticamente sì quei due mesi lì portarono tanti occhi alla WWE e combinazione soprattutto nel mainstream Austin guadagnò tantissimo esattamente e ripeto portò tanti occhi casuali in quei due mesi praticamente la presenza di Mike Tyson sulla WWE e combinazione la WWE aveva anche un prodotto che per quel periodo per il pubblico diciamo di quel periodo pubblico casuale era perfetto era un prodotto che non non ha retto bene c'è un'espressione c'è un'espressione americana che dice è invecchiato come latte perché effettivamente se andate a vedere l'attitudiera adesso l'attitudiera ha delle cose divertenti però ha molte cose che sono palesemente discutibili l'altro giorno ho riveccato un mio vecchio stato che commentavo l'attitudiera dove praticamente tipo c'era non mi ricordo mi sembra Miss Kitty sul ringo una roba del genere c'era comunque un mesh femminile e non mi ricordo chi Lil diceva le donne sono degli oggetti a occhio a occhio direi che era una roba che poteva dire Jeff Jarrett sì forse era di Jarrett sì 99 JR diceva che cosa schifosa che ha detto e lo era detto a me questo sembra un messaggio bellissimo sì esatto perché se oggi se oggi nel 2020 una persona si azzardasse a dire una cosa del genere tu guardi l'attitudiera con gli occhi moderni praticamente e ti chiedi come cazzo ha fatto sta roba a fine anni 90 ad avere il successo che ha avuto però era un prodotto perfetto per la generazione di quell'epoca ogni prodotto va messo nel contesto di quel periodo in quel periodo andava forte Jerry Springer andava forte quel tipo di programmi lì che era programmi trash stupidamente tiro fuori una cosa che piace un po' a tutti che però secondo me è invecchiata è sempre divertente ma è invecchiata male le battute di Friends anche come vengono trattati i gay in Friends è molto invecchiato male se lo rivedi adesso molte cose che fanno che dico molte battute di Friends sono molto invecchiate male sotto certi aspetti poi fa ridere comunque perché lo vedi con gli occhi di una sitcom e fa ridere è affetto però comunque anche Friends è molto un prodotto del suo tempo che se lo rivedi con gli occhi di adesso è un po' cringe sotto certi aspetti non sono tanti perché comunque è una serie che regge ancora bene però ovviamente va messa nel contesto del periodo ma ci sono tante cose tante serie che se le vai a prendere oggi non reggono non reggono minimamente perché è cambiata la sensibilità semplicemente è un mondo più politicamente corretto nel bene e nel male e quindi alcune cose hanno retto hanno retto male questo confronto poi sempre di parlare prima di SmackDown una cosa che ci siamo dimenticati di NXT di parlare di Mortal Kombat di questa cosa credo e va detto non sono solo io in molti hanno fatto questa associazione su Twitter sembra che abbiamo finalmente capito chi è questa qui praticamente e Karen Kiu è l'ex e questa lottatrice cinese americana cino-americana che comunque è lì al performance da un po' di tempo però ce ne eravamo dimenticati perché è infortunata un anno e mezzo perché lui si era fatta male durante il Mayan Classic del 2019 e non l'abbiamo più vista praticamente quindi dovrebbe ritornare adesso e le è andato almeno per il momento questo personaggio settimana scorsa mi ha detto ma magari è Sari erroneamente settimana scorsa ha detto che era una lottatrice della Stardom in realtà non c'è mai stata in Stardom ha fatto altre compagnie tra l'altro ha molto a che fare lei con le compagnie o la compagnia meglio di Maigo Satomore che guarda caso sta lavorando con la WWE in questo in questo in questo periodo pare che vada addirittura in NXT UK però però effettivamente lei in Stardom non c'è mai stata orrenamente detto che è una lottatrice Stardom però ovviamente è ancora bloccata in Giappone quindi quindi non se ne parla a meno per il momento dovrebbe essere come detto Karen Q almeno da da impressioni del pubblico che che magari sono stati un po' un po' fisionomisti diciamo che è un po' posso dire che è un po' la loro risposta a Lucia Underground questa storia non ha quel livello non ha quel livello naturalmente non ha quel livello ovviamente però diciamo che come come cosa si ci rivedo molto Lucia Underground ci sono dei concetti che possono possono effettivamente rimandare a Lucia Underground e altre cose che mi stavo dimenticando prima di parlare di SmackDown non mi sembra non mi sembra ce ne siano quindi passiamo alla puntata di SmackDown di questa settimana un'altra buona puntata un'altra bella puntata non clamorosa intendiamoci perché alla fine trainata sostanzialmente da una storyline che è praticamente la continuazione della discesa agli inferi mentale da parte di J.U. però se non altro dovremmo avere il main event o comunque il match per il titolo universale di TLC che dovrebbe essere Romain Result o Kevin Owens che buttalo via no non lo butto sicuramente via per essere una roba che sarà una one and done molto probabilmente va benissimo vai dovrei chiedere alla nostra memoria storica ancora più di te che tu solitamente eri la nostra memoria storica ma adesso ne abbiamo un'altra che è ancora più enciclopedica perché io sono vecchio e la mia memoria comincia a perdere colpi vai ecco no si sono già affrontati sì Romain e Kevin alla Royal Rumble se ricordo bene per il titolo universale sì quando 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 coso era era il sì sì ok a parte a parte di allenamento invertite naturalmente sì che tra l'altro aspetta aspetta ora che mi ricordo è la mitica Rumble dove al numero 30 doveva entrare Samuaggio e entra Roma Race dovrebbe essere adesso controllo ma penso ma penso di sì vado a controllare però è possibilissimo che sia che sia effettivamente effettivamente quella allora vediamo un po' Roma Race contro Kevin Owens allora si sono affrontati a maggio del 2018 a Raw si sono affrontati uno contro uno alla Royal no alla Royal Rumble 2017 chi la vinse la Royal Rumble del 2017 la vinse Randy Orton la Rumble e quella che vinse Randy Orton è quella che poi portò allo sconto tra lui Undertaker sì era non l'Alamodon ma quindi sì 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 è proprio quella dovrebbe essere quella almeno controllo controllo un attimo ma dovrebbe essere assolutamente assolutamente quella che che dici e sì onestamente non ricordo quel match non ricordo dovrei rivedermelo quantomeno perché si trova si trova su YouTube fortunatamente forse era quello con Gerico nella Shark Tank Sì 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 era quello era quello della Shark Tank sì giusto bravo era quello e basta onestamente non ricordo il match poi Randy Orton vinse la Rumble eliminando Roman Reigns che entrò con il numero 30 esatto che tra l'altro che ti ricordi la mitica cosa che tutti si aspettavano Samoa Joe sì sì e poi arriva Roman e tipo la gente la gente insorse quando arriva Roman ricordo anche una persona che è morta che andò avanti per mesi a rompere i coglioni che Roman era mi sembra che anche noi comunque non eravamo molto contenti credo che ci siano le reazioni ancora su YouTube le reazioni poi sono fantastiche le reazioni erano notevolissime esatto possiamo credo che posso tranquillamente andarla andarla credo a riprendere diciamo le reazioni vediamo se ne mecco se ne mecco qualcuna praticamente degna di tipo questa ok va bene il mio preferito in realtà è quello dove finisce il gong senti uno che urla sommo a Joe poi ti dirò e senti but what the fuck is that shit credo che sia questa no non è questa è un'altra è un'altra era un'altra è un'altra quella credo che sia questa vediamo no è comunque tanta roba mettiamola dentro è notevole sì questo è questa è più bella perché è all'interno di un bar la direttora è quella del bar se non sbaglio si è lui eccolo diciamo che la presero la presero bene diciamo poi mi ricordo che anche noi ai tempi non la prendemo benissimo come cosa perché dicevamo che cazzo ci fa lui qua dentro poi capimmo che cosa stavamo andando a fare sì 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 esatto perché doveva doveva vincere doveva vincere c'è anche questa di nottevole piccato perché c'è il fan il fan che si riprende 27 giusto sì esatto c'è questa che con il fan che si riprende felice poi parte la musica di Roman Reigns e diventa triste perché è proprio tipo Austin quando ride diventa serio vabbè tornando a Smackdown comunque tornando a cose a cose più più lieta purtroppo non è più su Youtube la nostra live reaction di quella Rumble no no non c'era erano i tempi dove non le facciamo ancora su Youtube no era non mi ricordo dove la facemmo però però l'avevamo registrata forse però non vorrei dire una fesseria non mi ricordo vabbè comunque vabbè non importa vai non importa dicevamo dicevamo per quanto riguarda per quanto riguarda per quanto riguarda per quanto riguarda no vabbè fanno Joe contro Kevin sembra la direzione con la G però non mi va bene in realtà come non va bene non va mai bene è un cazzo io volevo Ettore ma come Ettore Ettore non mi basta che vada per il titolo intercontinentale pure che cavolo deve fare scusi è tutto diamo tutto a Ettore tutto deve fare ok perché Ettore non può fare tutto perché perché no evidentemente ma Ettore Ettore non è obbligatorio scusi mi permetta dottore non lo so non lo so ok va bene grazie mille stavo cercando se ce l'ho in archivio la diciamo la roba della live reaction ma no purtroppo non 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 c'era non ricordo dove la facemmo quella direttora anch'io se la facemmo perché non mi ricordo perché mi sembra che l'avevamo fatta perché quella del 2006 ci sono sicuro che l'abbiamo fatta perché c'era la nostra mitica reazione a Stice e quella non è quella lì non era neanche stata caricata non è rimasta no esatto sì esattamente sì era su un altro un altro stream sì e questa non mi ricordo ve la feci vabbè non lo so devo cercare non lo so neanche io seriamente un giorno faremo anche un giorno dobbiamo fare il il come si come si dobbiamo fare il la skit dell'opinionista misterioso un po' come il parrente misterioso chi è l'opinionista misterioso non lo so però forse sì è vero non lo so va bene ok c'è altro non lo so va bene va bene comunque posso dire che adoro il personaggio nuovo di Billy Kay mi fa spaccare da lì sai qual è la cosa la cosa singolare tra l'altro è che sta andrà sicuramente più over lei dell'ex dell'ex praticamente compagna di tag esatto che era data in odore di push in push imminente a Roe poi lei è in tech team con Leslie Evans e la praticamente è Billy Kay poi purtroppo salirà sul ring Billy Kay io continuo a dirlo Billy Kay sarebbe una manager fantastica dipende dal personaggio però perché non ce la vedo lei a fare una manager seria tra virgolette però no 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 non sarebbe una manager seria che probabilmente perde sempre alla fin fine se vogliamo ovviamente non sarebbe una manager seria però secondo me spaccherebbe di brutto io lo trovo l'ho sempre detto che secondo me lei al microfono è molto brava perché ha dei tempi comici notevoli molto belli dei tempi comici notevolissimi lei tra l'altro abbiamo una copia del curriculum è bellissimo non so chi l'ha scritto però chi ci ha lavorato e ha fatto un ottimo lavoro anche perché è un curriculum dove veramente non c'è scritto veramente nulla cioè a livello no 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 non ti dice veramente niente possiamo leggerlo se volete tanto sì sì leggilo allora praticamente c'è Billy Kay Orlando Flore aspetta che me lo metto me lo metto un pochettino ingrandito così me lo riesco a leggere bene eccolo qua Billy Kay Orlando Florida c'è un numero di telefono che è una citazione di una canzone l'ho scoperto tra l'altro non è un numero vero una citazione di una canzone Farina Trato che lei si firma come Billy Kay scritto B-I-L-L-I-E e poi la mail è billy con la Y punto ok at www.corpo.com quindi presumo sia anche finta come email ovviamente non esistente perché il suo nome è senza la Y in realtà per come è scritto sì è Billy esatto Billy esatto la mail è Billy la differenza è che Billy con la Y è il diminutivo di William e quindi è maschile esatto mentre Billy è femminile esatto comunque storia lavorativa superstar della WB dal gennaio 2017 a oggi e praticamente mette diciamo nei suoi i suoi vari i suoi vari talenti e c'è scritto ha comunicato in modo efficace con con un diverso con un diverso gruppo di atleti coach e di ufficiali di gara utilizzando ascolto dinamico e come dice abilità di di fare domande a risposta aperta ha aiutato nuovi membri del team ad acclimatarsi alle procedure ha collaborato con compagni con compagni atleti compagni di roster e ha migliorato le performance competitive tu sai che queste robe qui sai qual è la cosa più bella di questo che probabilmente è il gergo della WWE questo segniamo no non è il gergo della WWE è che roba del genere nei curriculum le scrivi davvero esatto esattamente cioè non è il gergo e non vuol dire assolutamente nulla tra l'altro no 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 allora io ho compilato un curriculum vitae nel curriculum vitae molte volte ci butti dentro delle robe che non vogliono dire di questo tipo oppure di rendere ampio nel curriculum vitae molte volte ci metti dentro delle robe degli arzini cioè tipo dici ho avuto esperienza nell'insegnare ai bambini si disegna i bambini e scrivi scrivi robe tipo tipo esperienze didattiche in corsi pre-infanzia esatto simfantini di disegno anatomico specifico cioè disegno anatomico disegno anatomico si cioè gli butti dentro perché gli butti dentro tutte ste robe qua quando fai un curriculum butti dentro tutte ste puttanate qua questi arzigogoli per far sembrare che tu stia facendo tu abbia fatto delle esperienze assurde qua di realtà poi se ti va di culo che becchi l'idiota che ci crede magari magari ti va anche non è che ti va sì quello sì ma non è proprio che ti becchi l'idiota è che semplicemente fa figo mettere dentro ste però non dice assolutamente nulla cioè non dice assolutamente nulla cioè poi le altre cose ho venduto e assicurato contratti di sponsorship con la WWE successfully marketed cioè di successo col marketing ho venduto ho venduto e praticamente mi sono assicurata contratti di sponsorizzazione con la WWE mi sono allenato in modo in modo estensivo 200 ore a settimana che non credo che sia neanche possibile grande questa questa è fantastico non credo sia neanche possibile a livello matematico per praticamente per per competizioni per competizioni in arrivo e per per esibirmi al diciamo a livello a livello top ho esibito eccellente lavoro di squadra e grande etica lavorativa promuovendo il cameratismo ho ottimizzato la nutrizione che cosa vuol dire questo per un modo in camaraderie cioè cameratismo nel senso di di come posso dire camaraderie la traduzione ho detto camaraderie probabilmente la diciamo la traduzione non è non è non è efficace camaraderie vuol dire che no cameratismo vuol dire cioè c'è il cameratismo ha fatto spogliatoio si esatto bravo ha fatto spogliatoio esattamente questo è il punto focale poi ho ottimizzato la nutrizione ripeto queste robe qui sono veramente le robe che scrivi in un vero curriculum tipo sono bravissimo a socializzare con gli altri esatto poi ho ottimizzato la nutrizione i regimi di allenamento e le scelte di vita per mantenere il mio stato fisico a livelli ottimali ho sviluppato e ho mantenuto redazioni chiave con compagni di roster staff di allenamento e amministratori scolastici e professori ho lavorato con coach e allenatori per capire e implementare miglioramento nelle strategie o strategie per migliorare ho monitorato l'attività dei competitor per per guadagnare vantaggi per guadagnare vantaggi no competitor nel senso di di avversari nel ring ah ok 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 per per migliorare per mettere a punto strategie e guadagnare vantaggi in match futuri ho applicato la disciplina e il senso della responsabilità nei confronti di tutte le attività personali e di gruppo ho determinato le aree che hanno bisogno di miglioramento e ho ottimizzato strategie per rafforzare la mia performance mi sono unita a eventi internazionali di wrestling scritto con due S per promuovere lo sport e rappresentare la nazione in modo professionale e poi c'è campionessa di coppia femminile WWE dall'aprile 2019 all'agosto 2020 anche qui sbagliato tra l'altro come tempistica a livello temporale ho mantenuto l'ottimismo il polso della situazione e ho rimbalzato rapidamente dopo errori per mostrare alla mia co-campionessa come rispondere a situazioni negative ho recitato sono stato un modello di vita un role model positivo per praticamente fissare il tono del oddio allora per fissare il tono dell'etica lavorativa del programma e oddio che cazzo c'è scritto qui allora act the positive role model set tone for work etico ok sono stato un modello un role model positivo e ho messo il tono per l'etica lavorativa del programma e ho migliorato la credibilità della la credibilità della nostra leadership con la co-campionessa e con i coach ho investito tempo per migliorare per costruire e migliorare le azioni con la compagna di squadra chiedendole di sfide individuali e obiettivi ho sfidato la co-campionessa a migliorare e a lavorare più duro confrontandole in modo costruttivo la negatività il pessimismo e la pigrizia ho monitorato e ho mantenuto la chimica di squadra ricordando continuamente la co-campionessa dell'obiettivo comune e del legame comune ho monitorato l'attività dei competitor anche qui per mettere a punto strategie e attenere vantaggi in match futuri ho esibito eccellente lavoro di squadra e forte etica lavorativa promuovendo il cameratismo siamo alle ripetizioni praticamente è veramente stupendo se vai a vedere i curriculum vite che vengono scritti sono veramente in queste maniere tutte parolone non vogliono dire assolutamente nulla non vogliono dire assolutamente nulla tra l'altro non vogliono dire assolutamente nulla sì esatto è questo il bello perché non vogliono dire assolutamente nulla sì assolutamente sì comunque abbiamo speso più tempo a parlare di Billie Kay di quello che ne ha occupato lei on screen ieri sera però quando è saltata fuori mi ha fatto spaccare dal ridere anche perché era evidente il disgusto da parte di Cole da parte di Cole più che altro da Graves c'è stato della sana indifferenza almeno per il momento comunque tornando al main event di TLC o comunque il match per il titolo universale di TLC Roma Rains contro Cammy Owens molto probabilmente per essere una one and done direi che non possiamo neanche lamentare penso che sarà anche un TLC match non penso che sarà un match un match normale al massimo al massimo un chairs match ma spero ovviamente di no franicamente no più che altro io la stipulazione perfetta ce l'ho per Roman vai è l'head of the table the head of the table match fa il table match beh puoi fare entrambe le cose vediamo vediamo un pochettino vediamo magari sai cosa magari il ladder match il TLC match lo lasciamo per per McIntyre contro il suo avversario magari se sarà AJ Styles o comunque un avversario che rende bene in questo tipo di match puoi fare il TLC match e il table match lo lascio effettivamente a Romero Zayn si becca il Fast Gun anywhere comunque un match dove non può essere contato fuori sicuro come loro il chairs match potrebbe prendersi lui perché sta cagata di match dobbiamo beccarcela ogni anno il chairs match cioè su 10 chairs match il lupo decente è stato Calisto contro Baron Corbin Calisto contro Baron Corbin che se lo dici ad alta voce non ci credi neanche no è vero però fu un grame il match poi vabbè mi ricordo con particolare affetto anche se fu un match di merda il chairs match con Big Show solo perché tiro fuori la sedia a larghe a 2 metri che è una delle immagini più divertenti credo della storia del mondo comunque tornando a noi vabbè abbiamo quello avremmo non ti ricordi con affetto lo stairs match quello con Rowan sì purtroppo non era in quel pay per view mi ricordo mi ricordo anche il tables match che perse perché era un ciccione sostanzialmente che era quello quello era Restel Media era l'anno dopo era il giorno era l'anno dopo era Extreme Rules credo era Extreme Rules quando praticamente subì uno springboard dropkick da Cody da Cody Rhodes e praticamente mise il piede sul tavolo per appoggiarsi lo sfondò sì e perse il match in questo modo che era sai cosa era anche un modo divertente per fargli prendere il match non fargli prendere il bump ovviamente però però fa ridere che lui si sia praticamente battuto da solo in questo in quel tipo di match vabbè tornando a noi abbiamo quello poi ecco visto che ne parlavate prima in chat il bug in particolare dei misteri ieri sera è stato stranissimo cioè erano chiaramente gli ill di quel match allora io penso che sia il tipico match buccato male che li fa uscire ill però nella loro intenzione non era fargli uscire ill nel senso che nella loro intenzione in questo in quella in quella situazione Corbin è ill quindi se lo merita di essere di aver di essere inculato in questo modo esatto il tipico finale da non è un finale non è un finale è tutto il match che è così perché comunque è già va detto una cosa a loro diciamo a loro difesa se vogliamo utilizzare questa definizione quantomeno questa volta non ci hanno preso in giro a livello del commento perché Corbin ha detto beh sì effettivamente stavolta Baron Corbin tutti i torti non ce li ha perché comunque è stato chiaramente inculato in questo match la domanda è chi si porta dietro la prossima settimana oh bella domanda vedremo chi perché mi sembra quanto meno mi sembra una cosa fatta con uno scopo cioè per arrivare la settimana prossima e vedere chi saranno praticamente i come lo vista io la cosa ieri mi è sembrato tanto quello che ti stavo quello che ti ho appena detto un sì è vero loro sono loro hanno fatto una roba da Hill però Corbin è uno stronzo però Corbin è uno stronzo più grande di loro quindi se lo merita però lì però lì onestamente onestamente lui non ha fatto niente in questo match per meritarsi tutto questo quindi ok che li ha insultati prima però nel match però Corbin esiste è quella sì tanto presumo presumo per motivi matematici semplicemente visto che comunque una dei quattro è una donna e non penso che vogliano prenderne una quarta saranno due la domanda è chi saranno questi due c'era una buona ipotesi fatta ieri praticamente fatta questa notte durante Smackdown da mi sembra Voice of Wrestling no era forse era short step su Twitter i due ex forgotten songs cioè quelli che non si sono messi quelli che non si sono messi nei guai con esprimendo esprimendo appoggio inusitato alle politiche di Donald Trump per esempio gli altri due che non mi ricordo chi erano però i due ex forgotten songs uno è l'ex amico di Murphy non trampiani esatto ci starebbe anche effettivamente perché uno effettivamente è un Wesley Blake quindi potrebbe effettivamente ci starebbe anche a livello di a livello di storia questa cosa qui se vuoi se vuoi riprenderti praticamente il discorso ovviamente con una gimmick nuova perché non penso non penso di proporarlo come in forgotten songs per ovvi motivi però però ci starebbe anche a livello di storia vediamo se saranno effettivamente loro o se sarà qualcun altro poi cosa cos'altro no è stata è stata una puntata dove alla fine la cosa che ha trannato la puntata è la questione di Jey Uso cioè Jey Uso sta ufficialmente perdendo la testa a livello di cioè deve arrivare a un punto a livello di storyline in cui perde completamente il controllo cioè la diciamo è talmente soggiogato da diciamo dal trattamento dal trattamento diciamo di Roman che alla fine diciamo perde completamente il controllo diventa e i due diventano una macchina una macchina distruttrice in attesa poi dell'arrivo anche del anche del fratello è un po' quello che dicevamo cioè comunque deve arrivare a capire quando perché poi alla fine l'avevamo detto all'inizio che comunque poi alla fine avrebbe girato Illa però deve arrivare al punto in cui praticamente perché in questo momento non è ancora convinto probabilmente al 100% o perlomeno non è arrivato praticamente al punto da essere efficace praticamente per 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 il frattamento esatto deve ancora arrivare al punto di rottura mentale siamo vicini però non siamo ancora a quel non siamo ancora a quel punto e poi dopo dopo Camino ci sarà Dele Brine a questo punto perché direi di sì contando anche quello che hanno fatto ieri no poi a parte quello poi comunque l'indizio l'indizio comunque lui l'ha di nuovo gettato cioè comunque c'è un diavolo sulla spalla c'è un diavolo sulla spalla di Jey Uso che comunque lo sta lo sta guidando e questo diavolo è chiaramente Roman Reigns perché lui l'aveva anche detto stima scorsa a Talking Smack ero convinto fosse Paul Heyman in realtà non è Paul Heyman il diavolo che lo sta che lo sta guidando quindi intanto i semini praticamente per quella storyline li stiamo li stiamo lanciando e non è assolutamente un male cioè volendo volendo in assenza in assenza di The Rock o in assenza comunque di altri potresti mandare C. Brian a Wrestlemania a Wrestlemania potrebbe essere con il suo romanzo il problema è che a quel punto mi sa che deve vincere e ho i miei dubbi che vinca però a Wrestlemania quindi vediamo vediamo cosa cosa accadrà cioè puoi anche a sto punto potresti cioè se veramente non lo fanno alla Rumble e Brian fa la Rumble potresti contare anche Brian come possibile vincitore esattamente che vediamo non l'ha mai vinta non l'ha mai vinta Brian diciamo mettiamola così e tanto però non gli servirebbe quando è l'ultima volta che un vincitore della Royal Rumble non ha poi vinto il main event di Wrestlemania cioè nel senso ultimamente negli ultimi anni di Wrestlemania a parte Brock Lesnar effettivamente i titoli hanno quasi sempre cambiato mano mi sembra vado a memoria vado a memoria però no no non sempre l'ultimo è stato con Brock Lesnar con Brock Lesnar con Romarense che ha conservato Wrestlemania fammi vedere un attimo perché l'anno scorso l'anno scorso è cambiato l'anno scorso i due titoli sono cambiati più che altro perché vabbè c'era la situazione con Romarense e Goldberg eccetera però l'anno scorso McIntyre ha vinto due anni fa alla 35 Rollins ha battuto Lesnar quindi si quindi cambiò il titolo per il titolo il titolo del mondo Coffier aveva battuto O'Brien esatto Wrestlemania 34 che era quella a New Orleans Lesnar mantenne contro Reigns il WWE AJ mantenne con Nakamura ah si è vero Nakamura vince la Royal Rumble vince la Royal Rumble però perse il titolo del giro Hill poi comunque alla fine 33 però ti dico secondo me se fanno McIntyre contro Fiend avreste il meglio a vincere McIntyre secondo me no invece sai secondo me no invece secondo me lo vediamo dipende che piani hanno loro con Wyatt però la discussione che volevo fare era questo cioè comunque è tanto che noi comunque non perché comunque noi anche a livello di a livello di pronostici quantomeno abbiamo gli ultimi anni abbiamo sempre detto poi magari non si verificava però abbiamo sempre detto il titolo può cambiare praticamente cioè il titolo ha senso che cambi il titolo a a Wrestlemania quest'anno ti posso anche chiunque vincere la Royal Rumble mi sento di dire nel caso nel caso in cui nel caso di un possibile versione di Roman Reigns ha senso che il titolo non cambia a Wrestlemania quest'anno più che altro è che mi sa che Roman farà un regno bello lungo e ha bisogno di fare un regno bello lungo secondo me per per il tipo di personaggio che ha è un gran bel personaggio anche con un regno corto però più è lungo il suo regno più ovviamente lui diventa dominante all'interno delle roste finché non arriva effettivamente qualcuno che possa battere perché in questo momento gente che possa battere realisticamente non ne vedo in quel di anche Brian puoi farlo battere da Brian però non servirebbe né a lui né a Brian esatto non vedo il vantaggio francamente in una situazione di questo tipo fai un bel match a Wrestlemania va vicino alla sconfitta a Roman Reigns però alla fine perde alla fine vince l'unico modo l'unica che può essere con Brian che vince può essere semplicemente per far andare Roman ancora più in versione killer nel senso che fai vincere Brian però il mese dopo Roman lo uccide si esatto puoi anche far così puoi anche far così è l'unica cosa che puoi fare però non lo farei francamente perché mi piace di più l'idea di un regno lungo per quanto riguarda però vediamo vediamo cosa poi magari semplicemente la Royal Rumble per restare a me c'è qualcun altro però in questo momento non saprei dirti chi francamente perché anche vincesse Big E in questo momento metti caso che vogliono veramente cominciare a pushare Big E Big E vince la Royal Rumble in questo momento ti dico può battere lui Roman Reigns probabilmente no però magari si inventa una cosa va a finire magari come Coffee Kingston sulla cosa che nessuno in questo momento può battere Roman Reigns io sono assolutamente d'accordo sì sì l'unico che puoi fare una roba del genere è Bryan ma a patto che poi il mese dopo Roman lo distrugge di nuovo e si riprende il titolo è l'unica cosa ma con Bryan funziona perché comunque è Daniel Bryan cioè non è non è un'incostruzione mettiamola così sì poi non è qualcuno in che deve essere costruito e quindi ha bisogno di esattamente tornando a Smackdown la carenza di avversari per gli Street Profits l'abbiamo avuta dannatamente evidente ieri sera perché i prossimi avversari saranno di nuovo Ziggler e Roode di nuovo Ziggler e Roode che li hanno battuti tra l'altro questa volta meno male meno male aggiungo se non li battevano c'era un problema beh potevano anche non battere e andare su qualcuno altrimenti ma chi lascia stare fai arrivare qualcuno dai nextino lo so perché Ziggler e Roode io onestamente non è che voglio vederli in ottica in ottica titolata perché li ho già visti 47 volte non è che ho grande voglia adesso hai fatto sto grande lavoro gli fai anche vincere il titolo no dai non lo so diciamo che questi qua sono dominanti nella divisione tag anche perché non hanno avversari basta li lasci lì li lasci lì campioni finché non trovi un avversario non è obbligatorio fare dei cambi di titolo per movimentare la situazione specialmente quando hai Ziggler e Roode non è questione dei cambi di titolo in sé e anche perché sono Ziggler e Roode che alla fin fine non sono neanche un tech team se andiamo a vedere non è obbligatorio fare per forza il cambio di titolo quando sei in una situazione come questa secondo me se avessi avversari effettivamente pronti capirei però in questo momento francamente mi sembra una situazione io sono d'accordo ecco magari se sono effettivamente come si dice se sono se sono in arrivo effettivamente i Fu Forgotten Sons senza senza l'altro che non mi ricordo come si chiama senza il Fu il Fu Brem credo che sia no non era Brem era cosa era Gunner senza l'ex Gunner credo scusa loro potrebbero essere una buona opzione tanto comunque erano in fase di push erano anche in fase di push erano in fase di push dovevano vincerlo quel titolo prima che Gunner li uccidesse esattamente quindi loro potrebbero essere una buonissima opzione dovevano andare in feda con i con i New Day se ti ricordi loro potrebbero essere una buonissima una buonissima opzione una buona opzione mettiamola così vediamo Gianluca sicuramente si ricorda il nome del tipo perché lo odiava con tutto se stesso il nome della gimmick praticamente sì in gimmick erano Jackson Ryker Jackson Ryker Jackson Ryker Steve Cutler e Wesley Blake Cutler e Blake non hanno fatto casino Jackson Ryker sì quindi diciamo che in questo momento sembra sembra diciamo come si dice se devono essere loro effettivamente a tornare loro due quantomeno non 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 Jackson Ryker che si è fatto anche odiare da mezzo spogliatoio contando che dovevano andare contro il New Day era palese che dovessero andare contro il New Day e il New Day ha risposto questo in orienta questo col cazzo che entra nello spogliatoio un po' come un po' come Rollins con Riddle non c'era grande interesse lavorare con con loro diciamo da parte da parte del da parte del New Day eh più che altro ma ti ricordo che anche Owens fece un tweet cattivissimo su quello di eh beh sì su di lui sì sì perché Owens se non sbaglio schisse proprio non provare a entrare nel mio spogliatoio ti sbatto fuori una roba del genere posso fare posso fare il cattivo tra l'altro in questa puntata che non c'entra niente con il foro testo posso dire che ho goduto quando Jay io uso ha menato Otis ma povero Otis quando 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 è uscito Jay quando è uscito allora quando è uscito Jay praticamente stava entrando Otis ero come ero come un vecchio commentatore di wrestling italiano che diceva menalo 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 ma povero Otis fagli male fagli male menalo tutto fatto Otis a me personalmente niente però ammetto che mi è piaciuto il momento in cui Jay è tornato con la sedia e l'ho distrutto di mazzate così a caso completamente a caso perché sono i pestaggi quelli 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 senza senso che fanno più ridere che danno più soddisfazione esatto poi cos'altro da segnalare ah se mi sei con Tottenham e Brian se mi sei con Tottenham e Brian bello buon match finale di merda finale di merda però è il finale che per mandare avanti sta storia quantomeno manda avanti la storia con l'attacco backstage da parte di da parte di quello e poi manda anche comunque continua a mandare over questo personaggio di Zayne che non vuole combattere Toru Zayne o Semi Yano come l'abbiamo ribattezzato ormai da un po' di tempo da un po' di tempo questa parte però sì diciamo che diciamo che è vero che da un lato non come posso dire non chiude qui la questione in teoria cioè non la chiude qua in realtà tra Brian e Zayne anche se in realtà Brian ha perso il match quindi tecnicamente non avrebbe diritto a un eventuale title shot però quanto meno serve a lanciare due faide quella tra Owens e Roman Reigns e poi anche quella tra Brian e Roman Reigns che comunque poi sarà quella e comunque ancora di riflesso anche quella tra Ettore e Samizain sì 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 un pochettino un pochettino Bianca Belair contro Natalia chi se ne frega aggiungerei anche con tutto con tutto il rispetto anche se quanto meno quanto meno se non altro povera barca no quanto meno anche qui serve a lanciare la fai da quella tra Bianca Belair e Bailey che bene o male pensavamo sarebbe successa dopo i bimbi hanno trovato questo modo per farla partire e ci arriveremo poi a questo a me sai cos'è che ha fatto più ridere però della puntata la cosa positiva quanto meno che non hanno fatto perdere la Belair perché pensavo che dopo l'interferenza perdesse invece ha subito l'interferenza e ha vinto poi comunque alla fine è una cosa positiva vai c'è anche il promo della barca il promo di Donatella Versace che comunque oggi era in versione Donatella Versace sembrava Donatella Versace ma ha fatto ridere in realtà perché gli porge il bicchiere lei vede che c'ha scritto boss e poi alza lo sguardo e si rende conto solo in quel momento che c'ha davanti sì noi ce ne rendiamo conto solamente quando gira il braccio il polso e vediamo praticamente la scritta boss però in teoria essendo girato dall'altra parte lei avrebbe dovuto vederlo prima rispetto rispetto a noi per motivi di logica diciamo di di prospettiva visuale mettiamola mettiamola così vabbè comunque ci arriverà ha detto che la frontera è la settimana prossima quindi già settimana prossima Sasha Banks nel promo quanto meno nel segmento Sasha Banks contro Carmelo non ha annunciato niente di ufficiale non mi interessa mentre per quanto riguarda Ro invece per la gioia di tutti una nuova puntata di A Momento Bliss con Randy Orton ospite quindi presumo anche presumo anche il pagliaccio marmellone che arriverà di fianco e e poi cos'altro è bello che me la sal mi salterò questo segmento ormai skip i segmenti che hanno a che fare con The Fiend io skipperò i segmenti con Wyatt li guardo in pay per view perché li guardiamo in onda tutti assieme ma ho deciso che d'ora in poi non voglio più avere niente a che fare con The Fiend con The Fiend anche perché tanto ogni volta mi dà fastidio e non trovo senso in quello che fanno perché cazzarsi e poi tra l'altro la vita è bella così tra l'altro il Triple Threat l'hanno per motivi inspiegabili l'hanno definito Sudden Death Triple Threat quindi è un Sudden Death Triple Threat esatto con Kifli Kifli AJ Styles e Riddle lo ricordiamo sono i tre che si affronteranno due face e un heal anche se in realtà AJ Styles è un po' a metà in questo periodo cioè un heal perché ha comunque anche la presenza di Omos come è stato ribattestato e vincerà AJ giustamente sfruttando la presenza di Omos sì lui è più un comedy heal stiamo a vedere che non un sì in questo momento è un comedy heal è un comedy heal stiamo a vedere altre cose clamorose che abbiamo saltato delle ultime ore degli ultimi giorni a livello di news non mi sembra che ci sia molto altro fammi vedere se sono usciti i rating di Smackdown i cosiddetti Fast National non è che non ci sono per via del ringraziamento no quelli di Smackdown e Fast National ci sono però mancano quelli precisi un po' in calo Smackdown credo che sia per le festività principalmente 2 milioni e 16 la prima ora e 1 milione 9.57 la seconda ora 2.016 e 1.1957 un po' in calo a livello di 18.49 hanno non è il programma più visto della serata perché i programmi più visti della serata sono la replica del Grinch su NBC che ha fatto 0.7 e lo speciale di vacanze e natalizie dei Minions che ha fatto 0.7 3.2 milioni 2.016 su CBS dalle 8 alle 9 Frosty the Snowman Frosty Returns tutti mi sa che era la sera è un po' sai cosa è un po' come noi quando abbiamo una poltrona per 2 e 24 mi sa che sono cose tradizionali diciamo per la tv americana no scusate dalle 9 alle 10 su CW è andato un programma che si intitola Grandma Gatranover ah no è un film no momento aspetta un secondo ah è un film no momento che cazzo sto a dire Grandma Gatranover CW vado un attimo ecco qua Grandma Gatranover by a rain ah è un cartone animato ok è un cartone animato praticamente natalizio è una storia praticamente è uno speciale natalizio praticamente che hanno replicato su pensavo che fosse pensavo che fosse un programma tipo quelli eh tipo quelli dei blooper no solo con però con i vecchi che vengono investiti che sarebbe stato per il mio umorismo malato mi sarebbe anche piaciuto però però non è fortunatamente quello è una cosa è una cosa fortunatamente natalizia sì ieri sera veramente ieri sera guardando i palinsessi delle tv americane ieri sera a parte i programmi di notizie tipo 2020 dateline eccetera eccetera dominano i programmi natalizi quindi è anche il periodo ci sta ci sta tutto sommato che comunque i bambini abbiano voluto vedere qualcosa qualcos'altro ieri sera invece che invece che vedremo poi lunedì vedremo poi lunedì cosa come andrà a finire per quanto riguarda la puntata di roma poi avremo i risultati precisi per quanto riguarda per quanto riguarda il per quanto riguarda praticamente il i programmi televisivi della settimana scorsa e anche di quella di quella della prossima della prossima settimana va bene direi che non abbiamo altro credo da direi che abbiamo finito da diciamo da come posso dire da quello che abbiamo parlato questa settimana abbiamo parlato di un po' di Raw un po' di Smackdown un po' di un po' della guerra del lunedì sera del mercoledì sera anzi chiedo scusa settimana prossima dovremmo tornare normalmente in onda martedì sera dopo la Champions League con settimana prossima noi che registriamo ovviamente per voi che ci state ascoltando domani sera dicevo dicevo come posso dire domani domani torniamo in onda tranquillamente se non ci sono carichi linee ovviamente si sono dimenticati di mettere il geoloc al file di di Smackdown su su youtube in questo in questo in questo momento adesso lo linko in lo linko lo linko in chat cioè vabbè probabilmente nel momento in cui ci state ascoltando probabilmente si sono ricordati che c'è il che c'è geoloc anche perché l'hanno segnalato su Reddit comunque la WWE mette mette praticamente la puntata di la puntata di Smackdown di e di Raw anche versione 90 minuti giornal dopo su youtube nei paesi in cui non c'è non c'è praticamente il un contratto televisivo stavolta mi sa che si sono dimenticati geoloc almeno per questo momento poi poi dopo probabilmente se ne se ne ricorderanno dovesse dire tempo tempo qualche minuto probabilmente probabilmente se ne ricorderanno va bene grazie a Mattia di noi stavo cercando notizie ma non mi pare grazie a voi ci sentiamo settimana prossima ok fate i bravi noi ci sentiamo ci sentiamo praticamente per chi ci sta ascoltando di di lunedì domani sera dalle ore 20.55 con la Champions League martedì mercoledì la Champions League giovedì l'Europa League con il wrestling invece appuntamento alle 23 domani sera dopo la Champions League con wrestling cafe by night connessione permettendo naturalmente e poi tra domenica e lunedì prossimo con una puntata di wrestling cafe e tra domenica e lunedì prossimo o di notte la live reaction sul canale di Max per diciamo l'edizione di Takeover Takeover War Games esatto si chiama War Games sì Takeover War Games grazie Mattia grazie a voi che ci avete ascoltato fino a questo momento grazie ai nostri patron ai nostri abbonati che ci hanno ascoltato in anticipo quelli da a livello mid-carder e a livello main event ricordiamo che c'è anche online già la puntata di Back in the Day dedicata interamente a survival series è bella lunghina quindi prendetevi pure con calma per ascoltarlo sì sì te la passo e niente presti caffè torna la prossima settimana appena sarà finita la registrazione per gli abbonati per i nostri patron e poi tra domenica e lunedì prossimo per tutti gli altri grazie per averci ascoltato buona settimana rimanete al sicuro e alla prossima ciao a tutti ciao